AUNA Redamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nella searching qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Mmm, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie. La TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, standy pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuoci piada, mixer tritacarni, affettatrici e spogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green da Uelila è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con l'anto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo, entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green la cura migliore per garden, divai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardini. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. Ci trovate anche su internet www.startergreen.it. A Salleo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni sono umili e grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico, con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Questo programma è offerto da... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Tra il tuo contained? ei. Per me play off e play out è più che sufficiente, posto che mi sembra che la maggioranza, quasi la totalità delle società, fossero d'accordo anche per non Ricominciare. quindi io avrei dato ascolto comunque a quello che aveva detto gli rally all'epoca che aveva portato un documento abbastanza importante però visto che si parla di ripartenza e si vuole comunque rigiocare playoff e playout potrebbe essere un compromesso giusto tra il non giocare come poi era stato presentato all'inizio e il giocare completamente potrebbe chiaramente essere quel compromesso però bisogna poi capire se tutte le società riescono a rispettare quelle che sono le norme del protocollo Mirko abbiamo capito che si giocherà bisogna capire appunto le modalità perché ti chiedo questo la tua sensazione qual è ad oggi vedendo quello che hanno deciso questa sera e appunto rimandando la decisione finale al 3 giugno ma guarda per assurdo Serie A e Serie B sono contenti di ripartire non ci sono mai state la mentele negli ultimi giorni riguardo a questo e credo che alla fine sia stata trovata anche la soluzione giusta e soprattutto il protocollo giusto visto che è stato accettato tanto si parla di 300 persone massimo adesso per quanto riguarda la Serie A poi adesso non so le altre categorie come cosa decideranno per quanto riguarda la Serie C adesso il dubbio c'è perché mio parere io credo che si potrà giocare soltanto playoff e playout e stop non me ne vogliono rimando però già i medici di per sé si erano già si erano già esposti a livello mediatico su un no oggi diciamo che forse non c'è stato neanche il tempo per decidere visto che bisogna anche dire anche una cosa che la riunione è iniziata in realtà alle 18.45 spadafora alle 19.30 doveva scappare quindi è stata una cosa abbastanza breve nella diretta precedente l'ho chiamata sveltina volgarmente però effettivamente è stato così anche se poi in realtà probabilmente avevano già deciso qualcosa di loro e secondo me sulla Serie C essendo un dubbio ancora visibile se preferito passare la palla al Consiglio federale che comunque sarebbe stato l'organo che avrebbe deciso definitivamente credo che ci stia ancora il dubbio perché ovviamente ci sono ancora delle discussioni in ballo e ci sta che si proroghi di qualche giorno anche perché la disputa è abbastanza aperta Alpini ti modifico leggermente la stessa domanda che hanno fatto loro voglio far capire anche meglio a casa si va secondo te il 3 di giugno verso la linea univoca Gravina oppure si cercherà di accontentare Ghirelli per non farlo sentire un emarginato perché vedendo quello che è successo nella precedente riunione Ghirelli è stato messo davvero alla porta ed è uscito ovviamente come sconfitto e poi ti chiedo così chiudiamo il discorso Rimini se sei d'accordo con la letterina io l'ho chiamata così la letterina di Babbo Natale che ha scritto Grassi oggi alle 17.52 con la riunione che iniziava alle 18.30 Allora io direi che già aver visto che hanno rimandato il tutto probabilmente c'è ancora qualcosa da chiarire qualcosa da capire oppure stanno cercando di trovare la soluzione che accontenti sia una fazione che sia l'altra fazione perché tanto si parla di fazioni ricordiamo che a mio avviso si fa il tutto anche per giochi di potere per cercare di arrivare a quella presidenza magari di federazione o di lega che potrebbe essere molto ambita Per quanto riguarda come andrà a finire vorrei dare anch'io il mio giudizio io sono d'accordo su quello che ha detto Alessandro e Mirko a mio avviso playoff e playout sono più che sufficienti mi dispiace molto per i Rimini ma la vedo molto dura confronto a quello che si è stato detto fino adesso e soprattutto come si erano espressi i presidenti delle varie società riuscire a giocare 11 gare e poi eventualmente playoff e playout quindi in quella direzione io direi che la soluzione sarà quella per quanto riguarda la lettera di Grassi tempistiche completamente sbagliate però il concetto ci poteva stare se fosse stato magari inviata qualche giorno prima però la tempistica per me non so se neanche se l'hanno letta visto che l'è stata mandata quasi alle 6 e hanno avuto neanche un'ora quindi forse l'ha letta adesso è bravo bravissimo quindi se l'hanno letta adesso forse è molto è molto improbabile che abbia avuto un peso riguardo alla la decisione Roberto tu oggi per concludere la pagina Rimini ti sei spinto moltissimo sei arrivato anche a dire ma sì allora alla fine se decidiamo di giocare solamente i playoff e playout fatevi fare quanto meno lo spareggio con i Fano perché abbiamo gli stessi punti in classifica e sarebbe una cosa giusta per il calcio ricordiamo che il Fano è penultimo semplicemente perché ha 5 vittorie contro le 4 del Rimini con gli stessi punti in classifica però io rivalisco quello che abbiamo detto anche oggi che le indicazioni di Quefa dicono che la classifica la dovrebbero stilare nella giornata precedente perché l'ultima non è stata completata quindi se tengono conto di queste indicazioni dell'UEFA il Rimini non sarebbe l'ultimo potrebbe fare i playoff però sappiamo come funziona la burocrazia in Italia quindi se il Rimini deve retrocedere retrocederà e sarà ripescato e poi però si apre un altro settore che è quello dell'iscrizione e la traduzione di 350.000 euro che non sono brustoline Da uomo di calcio da uomo di calcio tu pensi che Ghirelli oggi esca definitivamente sconfitto o verrà forse presa in considerazione quell'offerta che aveva fatto lui di quantomeno giocare il campionato visto dopo quello che era successo visto l'ultima lettera che ha fatto pubblica il 20 di maggio lui ribadiva i concetti espressi dalle società quindi non so se farà un passo indietro oppure ho torto collo dovrà accettare le decisioni della federazione certo è che lui ha dimostrato per una volta di essere dalla parte delle società ma se gli vogliono fare le scarpe hanno tutta la possibilità di farlo visto che federalmente la Lega Pro conta ben poco rispetto ai dilettanti e al resto quindi io penso che sia in una graticola mi auguro che riesca a spegnere il fuoco ma non sarà facile per lui mi dispiace perché si è dimostrato un ottimo dirigente ed era dalla parte delle società era per l'aiuto delle società di una fiscalizzazione degli oneri e quindi una persona che vuole bene al calcio poi vedremo quello che decideranno gli alti vertici che per loro interessi politici decideranno sicuramente in maniera non equa questo è il mio punto di vista Allora Roberto più è di salutarti innanzitutto a te Mirko faccio i complimenti perché oggi un'ora e quarantacinque abbiamo tenuto tutti a rapporto tifosi del Rimini gente interessata per la sentenza che doveva venire appunto da questa riunione purtroppo è arrivata dieci minuti prima delle nove noi siamo riusciti a stare in diretta fino a quasi alle ore e venti poi abbiamo visto che i tempi erano lunghi quello che potevamo fare l'abbiamo detto abbiamo affrontato tutte le tematiche di questa stagione inerenti a Rimini e anche al mondo della Lega Pro quindi i miei complimenti sono d'obbligo questa sera grazie ancora Roberto a te e noi ci sentiamo lunedì per la diretta con SportUp per commentare al meglio questa giornata e per commentare quella che verrà poi il 3 di giugno grazie ciao a tutti i colleghi ciao Romy ciao ciao allora dunque abbiamo salutato il primo ospio di questa serata ci sembrava doveroso iniziare appunto a parlare di Serie C per chi non lo sapesse che ci sta seguendo anche da fuori regione siamo in diretta qui sulle pagine Facebook di Calcio di Rigore di SportUp noi abbiamo una trasmissione in onda su Sette Gold e su Telerimini negli studi di Rimini quindi causa sanificazione studi stiamo ancora procedendo tramite il web stasera allora piccola parentesi lo dico anche a voi Alessandro Mirko e Giacomo parleremo del Grosseto ci sarà la nostra amica Noemi che ci racconterà una delle squadre che sarà protagonista nella prossima Serie C e ci sono delle curiosità legate al mondo del Grosseto poi andremo a toccare la penultima regione più grande in Italia che è il Molise attraverso l'ufficio stampa del Vasto Girardi Michele Visco che ci racconterà anche la realtà dell'Agnonese questo per quanto riguarda la Serie D Girone F poi affronteremo l'eccellenza con la Marignanese vicino appunto all'Urra vedremo appunto di affrontare con voi anche le tematiche inerenti alle possibili seconde se rientreranno nei piani appunto della Serie D andremo con Alpini ad affrontare i discorsi inerente alla promozione qualche notizia anche di mercato come l'aspetto da te stasera Alpini e poi per ultimo concluderemo con la finestra dedicata alla prima categoria Romagna ma soprattutto Alpini preparati spero che hai studiato andremo ad affrontare per ultimo il discorso legato alla promozione marchigiana perché c'è stato il presidente Cellini presidente delle Marchi che ha detto un'importante cosa che si allinea più o meno a quella dichiarata da Braiati per quanto riguarda la regione Emilia Romagna siete pronti voglio sentirvi assultare siete carichi Marzocchi Mariotti sono pronto però Ale ride quando fai i nomini in mio nome ride sempre ha ragione ha ragione io quello che collega Albini Bellaria allora lui pensa al Bellaria pensa a dei ricordi belli sul Bellaria no ho sorriso anche ho sorriso anche quando ha detto Noemi quindi vale più ah ok quello non ci ha fatto caso allora questo è Claudio che tra poco leggiamo cosa cambiava era forse meglio fermare il campionato una settimana prima con tutte le compagini con le stesse partite di Rimini era a salvo Ghirelli Claudio non scrivere certe cose che poi si è denunciabile su internet occhio a quello che scrivete ragazzi per quanto riguarda i commenti non usate parole gravi che possono essere denunciabili per quanto riguarda capisco lo sconforto però ancora non è stato deciso nulla Claudio stai calmo stai tranquillo insomma bisogna aspettare il 3 di giugno allora se l'avete in linea sto aspettando Guido che si sta collegando adesso andiamo a salutare il primo ospite di questa serata aspetto ancora Guido che si possa connettere non lo vedo ancora eh Carlo Mariotti se si connette sono direttanti punto it che si collegherà fra poco tra noi inizieremo appunto a parlare della serie D e delle categorie minori vediamo se riusciamo appunto ad avere Guido ancora no Giacomo invece nel frattempo è sparito Victor Endoca avremo anche come ospite ve lo ricordo per quanto riguarda la promozione Romagna anzi Victor tu sei andato a fare poi nella seconda parte il campionato San Marinese ci dirai qualcosa in più anche per quanto riguarda il campionato San Marinese Guido non riesco ancora a vederlo in linea ragazze allora vi faccio una domanda li sto messaggiando adesso come sei bravo Mariotti come sei bravo Ale le sentenze Ale Ale quello che è successo ieri un gran caos per quanto riguarda anche il messaggio scritto dai capitani in serie in serie D per il blocco delle retrocessioni nei campionati di serie D tu come l'hai visto questo ultimo colpo di scena? ma guarda era abbastanza scontato adesso magari non il documento che abbiamo visto però quantomeno una possibile lamentela sinceramente me ne aspetto delle altre dalla C a scendere credo che come abbiamo detto anche nelle scorse settimane ci saranno diverse società diverse persone che si lamenteranno arriveranno ulteriori documenti ricorsi contro ricorsi eccetera purtroppo sai quando bisogna prendere delle decisioni qualcuno per forza scontenti poi possiamo dire che queste decisioni possono essere giuste sbagliate potevano arrivare prima con una tempestività diversa con parole diverse con una comunicazione diversa è tutto corretto vale tutto però è chiaro che qualcuno si arrabbia ed è normale mi sembra che insomma ce lo aspettiamo tutti dai Giacomo Alpini tu sei contrario sulle blocco delle retrocessioni oppure sei a favore del del mandare spedire giù dalla serie D all'eccellenza le 4 per ogni girone no no allora quello che penso io a mio avviso la cosa migliore sarebbe cercare di unificare un po' tutte le regole eventuali promozioni e retrocessioni per tutto il mondo delettantistico però a mio avviso le 4 della serie D sono assurde io mi aspettavo sia lettere o lamentele sia da presidenti anche dalle squadre quindi i capitani ci stavano perché per me 4 sono una regola assurda cioè la terz'ultima la quarta ultima dovrebbero giocarsi il play out al limite quindi sicuramente non erano sicure di retrocedere già le ultime due è difficile farlo digerire perché dipende dai punti che avevo di distacco però la terz'ultima e la quarta ultima per me era proprio assurdo allora Mirko sto facendo fatica a ricevere il segnale da da guido nel senso che si connette e poi scompare subito vediamo se riusciamo appunto a metterlo in linea ci riproviamo nel frattempo magari ti lascio a te guidare un attimo guido ti tengo fuori da questo sì 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 e continuo con Alpini e Marzocchi tanto Marzocchi e Alpini vi giro questo messaggio che vale anche per voi ovviamente anche per Mariotti ci scrive il collega di Leven Sport Davide Maino bravo Daniele complimenti a te i tuoi ospiti per la competenza e tempestività negli aggiornamenti sulla C buon lavoro un saluto dal Lago di Garda ciao Davide grazie come sempre un abbraccione forte complimenti rivolti anche a voi poi andiamo a sentire Alessio Gaggioli occhio cosa rispondi Giacomo e poi tiraferri che ce l'ha con te se c'eri bellaria eri sicuramente contrario allora vediamo se riusciamo a vedere guido ancora no Matteo fammi una cortesia prova a togliere la schermata inerente a quello che vuoi farci vedere adesso dalla regia e vediamo se quello è il problema perché guido non riesco ecco bravo vediamo se poi guido lo riesco a prendere adesso continua pure Mariotti a indicargli la via giusta intanto Riccardo Lachini ci scrive Victor Endocca dove sei? no non ce lo siamo dimenticati Victor lo affronteremo tra poco lo incontreremo per farci raccontare appunto la prima parte del campionato è anche la seconda quando sei trasferito in quel di San Marino abbiamo sentito l'altra sera mister Ciofi che ci ha raccontato qualche curiosità sul campionato sanmarinese questa sera diciamo che aggiungiamo continuiamo appunto a ricevere curiosità anche dal nostro ospite Victor Endocca tra l'altro li abbracciamo intanto Giacomo salta spesso anche lui problemi di connessione eccolo qui ogni tanto salto Giacomo Alpini ah non lo so stasera fai capricci la linea dai 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 ricomponiamoci perché altrimenti qui non si parla più di calcio allora seriamente seguitemi vediamo se riesco a prendere Guido proviamo proviamo ancora no ancora non riesco ad avere Guido non so perché non so perché intanto vi faccio questa domanda così vedo io dalla regia cosa posso fare Mirko rispondi a te così ti rilascio un attimo ci penso io un attimo a vedere come posso fare con Guido ti volevo chiedere anche il tuo parere per quello che è successo in questi giorni di caos soprattutto nel mondo della Serie D facciamo un passo indietro ovvero una settimana prima arriva questa questa proposta dove si dice per l'appunto che le quattro squadre di ogni girone devono retrocedere in eccellenza e qui scatta il caos perché in settimana ci sono fatti sentire i capitani poi le società stesse che hanno fatto un unico gruppo dove non ha partecipato la San Maurese prego Mirko allora la situazione è abbastanza incasinata perché allora intanto ricordiamo che c'è stata la decisione decisione proposta della Lega Nazionale di Lettanti di di retrocedere tutte e quattro le retrocedende quindi teoricamente retrocederebbero 36 formazioni che è la proposta appunto della Lega Nazionale di Lettanti perché si vorrebbero mettere in pari col discorso legato agli altri campionati visto che essendo un campionato nazionale si devono collegare ai campionati professionistici in realtà ci si attendeva che ci fossero soltanto due eventualmente le retrocessioni visto che il blocco non si poteva fare la proposta la proposta delle quattro retrocessioni è dovuta al fatto ma questo rimane un mio parere personale l'ho già detto scritto anche su Miglior Romagna Sport secondo me è stata una mossa è brutto dire una mossa strategica perché si parla di mandare giù delle squadre però credo che sia stata una mossa della Lega Nazionale di Lettanti per muovere le acque perché c'erano troppe accochette c'era il discorso legato al decreto che dava potere pieno potere alla Federcalcio e quindi si pensava magari che sì vabbè adesso che hanno pieno potere dato che prima non si poteva fare il blocco dell'elettrocessione adesso lo si può fare niente di più sbagliato infatti la Federcalcio lasciando pieno potere avendo pieno potere ha deciso per ora di mettere le quattro retrocessioni il problema qual è? è capire più che altro ad oggi come verranno attuate le quattro retrocessioni chiudo la premessa che giustamente parlavo di muovere le acque non è caduto un stasso in uno stagno credo che sia caduto un meteorite probabilmente nello stagno e cosa è successo? è successo praticamente che le 36 società si sono praticamente tutte arrabbiate per la decisione 31 di queste società hanno formalizzato una lettera creando ricordiamo un comitato che si chiama Salviamoci che ovviamente deciderà in caso venga confermata le quattro retrocessioni di praticamente di mandare un ricorso univoco al TAR e ieri notizia di ieri sono 28 capitani delle 36 formazioni potenzialmente retrocessi ad aver scritto un ulteriore lettera alla federazione qualcosa si è mosso possiamo dirlo e credo che questa mossa non so quanto voluta ma secondo me è voluta potrebbe accelerare la riforma visto che comunque da anni che si parla di fare una riforma e onestamente è una cosa su cui Sibiglia punta molto peraltro lunedì sera Bragati a zona D ha dichiarato che effettivamente è due anni che ci punta e stavolta forse ci riuscirà a fare questa riforma ma se non si muoveva niente era impossibile probabilmente partire subito invece almeno il prossimo anno c'è la possibilità anche perché onestamente se non sfrutti questa situazione quando si farà mai una riforma mai è brutto da dire però in una situazione purtroppo caratterizzata da una pandemia il suo malgrado forse è l'unica opportunità per sistemare un po' anche i campionati allora leggo un po' di messaggi ragazzi Matteo prova a togliere di nuovo la schermata perché Guido non riusciamo ancora a riceverlo ok rimani così per un attimo chiedo ancora una volta Guido di provare a cliccare sulle link per poterlo inserire nella nostra diretta altrimenti cerchiamo veramente di creare un altro un altro link proviamo il tutto per tutto Davide Maino è una bella beffa è bella e buona vedersi il retrocesso con quasi un terzo di campionato da giocare tra cd si prevede un'estate di ricorsi e tribunali l'ennesima Marzocchi Alessandro rispondi tu aspetta Ale che non ti sento più si è tolto anche il microfono a te prova a parlare no no sei è ufficiale sei sei su su un altro pianeta Ale non ti sentiamo è su certe parte non ti sentiamo non ti sentiamo ancora Alpini la rivolgo a te allora sì io cioè l'abbiamo detto più volte purtroppo questo è un campionato questa parte di campionato soprattutto la conclusione è anomala come è anomala la situazione che stiamo vivendo quindi purtroppo è vero è una beffa vedersi eventualmente retrocessi con un terzo di campionato da giocare ed è normale che se le decisioni saranno quelle ci sarà una serie di ricorsi che cercheranno di ribaltare questi questi verdetti però purtroppo come diceva Mirko è l'unico modo se si vuole se vogliono fare questa riforma da partire in questo modo altrimenti la vedo molto dura è difficile riformare tutti i vari campionati è difficile cercare di cambiare un po' questo calcio dilettantistico e quindi o si sfrutta questa occasione oppure si andrà avanti ancora con le stesse regole le stesse modalità che stanno andando adesso però è vero è un peccato è un peccato però la situazione è questa ipotizzando tre gironi di eccellenza Emilia Romagna da 14 squadre quante secondo Mirko e Alessandro potrebbero retrocedere se con questo format sia in eccellenza e promozione sia più facile avere ancora i giorni a 16 tanto agognate grazie Matteo da Rimini è testone Matteo è testone è già detto è già detto devono fare una riforma con 16 squadre per Girone l'hanno già detto praticamente ci vorrà probabilmente un piano biennale se non triennale ma credo biennale allora andiamo a vedere aspetta gli altri messaggi Davide Baudanelli ci conviene partire anche solo per giocare la prima partita che è quella col Fano per soppassarlo qualora si riprendesse a giocare tutte le partite di campionato di Lega Pro sì Alessandro Marco Ferrari allo stadio attuale è confermato che retrocede la San Maurese o va giù il crema questo è uno dei dibattiti che volevo parlare stasera bravo Alessandro che ce l'hai posto allora Mirko fai una cosa intanto concetti su Guido perché non riesco lo vedete Guido lo vedete voi Guido lo vediamo però ci dà segnale assente di connessione quindi non so se ha lui problemi di connessione lui mi dice che ha microfono e camera spenti e non sa come si attivano deve dare due autorizzazioni quando gli arriva il link deve dare due autorizzazioni scusate se parliamo di queste cose a livello di regia ma siamo in diretta lui è dentro ah beh se non ha se non ha microfono è acceso non ha il computer con il microfono e la fotocamera se la se la se la perché riesce a fare le trasmissioni anche tramite anche tramite skype quindi strano che che non non riesca per me per me deve dare ancora l'ok cliccando sotto la c'è ancora una richiesta di autorizzazione per entrare nello studio facciamo una cosa facciamo una cosa Giacomo fatti dare il numero intanto da Mirko e aiuta tu Guido falli centro assistenza Daniele Emanuelli grazie dai 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 Giacomo veloce Marzocchi la giro a te così facciamo ad abbiare Mariotti stasera Alessandro Marco Ferrari allo stato attuale è confermato che retrocede la San Maurese o va giù il crema? ah innanzitutto mi sentite sì 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 è venuto sul pianeta Terra vai 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 grazie guarda allo stato attuale troppo diventa complicato sì sì però attenzione ai ribaltoni attenzione a quello che può succedere voglio dire una cosa in questo momento retorcedono tutti e non retorcede nessuno mi spiego siamo in un momento di stand by di blocco cioè non sono ancora state prese le decisioni totali finali e complete cioè può succedere di tutto quindi cerchiamo di non adesso dire però quello però quell'altro siamo ancora in un momento in cui può succedere veramente di tutto quindi proviamo a dire quello che succederà ma non è così certo ecco voglio dire questo non diamo certezze dove non ci sono perché non le hanno neanche loro è questa la verità Matteo Matteo ti chiedo una cosa mi vai troppo avanti con le domande inerente alla scaletta abbiamo una scaletta non possiamo passare dai direttanti alla promozione marchigiana rimani calmo su Gabizio e Gradara sai che ci arriviamo a parlare però sul finale di trasmissione perché altrimenti gli ospiti non ce li ho attivi per quanto riguarda il petto delle varie categorie allora Mirko Oscar Cervellieri ti leggo questo messaggio importantissimo la riforma dei direttanti è essenziale se è vero che molte società spariranno o non ripartiranno per effetto di questa pandemia perché allora non aspettare di ripartire tutti noi direttanti nel 2021 oppure dopo aver trovato il vaccino i protocolli medici per noi sono insostenibili ed in più cosa facciamo se alla ripartenza vengono fuori i nuovi casi ci riferiamo tutti congeliamo i verdetti e ripartiamo nel 2021 siamo stati senza calcio ahimè per tre mesi sarà dura ma per la salute potremo farlo ma guarda io ad Oscar che per me si intanto gli faccio i complimenti per la quasi ormai insomma certezza della promozione io gli dico soltanto una cosa siamo a fine maggio vaccino non si sa ancora quando ci sarà per cui bisogna in un qualche modo conviverci col virus poi noi ci auguriamo vedendo anche i dati che nel giro di un mese un mese e mezzo ci sarà bisogno di altri protocolli differenti da questo è ovvio che un protocollo se tu guardi il protocollo di oggi non sarà mai il protocollo di settembre io credo che le cose cambieranno quindi io non sarei così pessimista anche perché poi alla fine è ovvio che essendo una passione essendo una passione ne possiamo fare a meno ancora per un po' ci mancherebbe però credo che il tornare a giocare sarebbe già un segnale di normalità ribadisco siamo a maggio non siamo a settembre e considera che i campionati inizzeranno non prima di ottobre quindi io non mi farei troppe domande adesso posso aggiungere una cosa Daniele io sono molto d'accordo con il presidente Cervelieri mi spiego attualmente il calcio dilettante non può riprendere parlo attualmente col protocollo attuale calcio dilettantistico non può riprendere poi se le cose migliorano se i contagi calano se il protocollo cambia se è un mucchio di cose allora si può anche valutare però attualmente nel 2020 il calcio dilettantistico non riparte cioè allo stato attuale delle cose e sono molto d'accordo con quello che ha detto Cervelieri cioè il presidente attualmente il 2021 è la partenza del calcio dilettantistico se le cose dovessero rimanere come ora poi è chiaro che ci sono dei miglioramenti costanti ce lo auguriamo speriamo che tutto vada per il meglio che il vaccino non serva pensiamo assolutamente positivo e che a ottobre i dilettanti possono ripartire ma al momento attuale riparte la serie A la serie B forse la C e basta sì su quello mi trovi d'accordo stavo leggendo un po' delle dichiarazioni abbiamo più o meno detto la stessa cosa nel modo diverso ma più o meno nella fine stavo vedendo anche le dichiarazioni riportate adesso da Matteo nella nostra nella nostra chat per quanto riguarda le dichiarazioni di Gravina lui è contento dell'incontro di oggi sostanzialmente è contento di che mi viene da dire perché tanto la serie C ancora non abbiamo capito se riprende completamente oppure no però sostanzialmente lui dice sono contento per la ripartenza del calcio quindi Oscar Gravina non ti viene dietro sul tuo pensiero da quello che sto vedendo Alessandro Marco Ferrari se Capodanno viene prima di Natale questo è carino non riusciamo a fare entrare ancora Guido Giacomo ci sta lavorando io se siete d'accordo andrei andrei avanti volevo farmi un'altra domanda se riusciamo a fare entrare Guido adesso altrimenti dimandiamo di qualche minuto e diamo spazio alla Noemi che la chiamo per il grosseto cerchiamo insomma di sopperire intanto la mancanza di Guido in qualche modo per cercare di vedere se riusciamo a sistemare in diretta questo piccolo problema mi faceva piacere davvero sentire anche la sua opinione perché è davvero un caos per quanto riguarda la serie D girone la serie D non solo girone F che noi seguiamo in particolar modo andremo ad affrontare tra poco anche con l'amico di Sernia Michele Visco ma poi per quanto riguarda il calcio totale dilettantistico parecchie piazze soprattutto nel nel nostro girone che rischiano davvero di retrocedere prima voi parlavate della San Maurizio ma c'è anche la Savignanese e poi dall'altra parte del girone F ci sono due marchigiane che riguardano appunto anche l'esito in questo caso di una possibile ripescata che potrebbe essere l'Anconitani in serie D questo per fare un po' il punto della situazione va bene va bene allora Alessandro ritorno un attimo un attimo su di te ti aspettavi sinceramente tu che sei abituato un po' al caos e ti diverti a raccontarlo giornalisticamente parlando ti aspettavi davvero tutto questo caos in serie D tu hai detto prima sì vabbè retrocessioni è stato fatto questo questo e quest'altro ma davvero tutto questo caos addirittura che 30 società 32 quelle che sono su 36 possibili retrocesse ci siano unite per dare conto la FGC ho visto ieri anche la vignetta che hanno fatto su web sono stati parecchio presenti e forse anche pesanti guarda sinceramente sì sinceramente sì perché è chiaro che stiamo parlando comunque di di società ma di persone di allenatori di presidenti focosi che vogliono comunque dirigenti che vogliono avere ragione e che magari hanno anche ragione quindi sì mi aspettavo tutto questo mi aspetto anche di peggio sinceramente nelle prossime settimane nei prossimi mesi in tutte le categorie dalla serie B no B forse no dalla C a scendere mi aspetto sinceramente di peggio purtroppo viviamo in un in un periodo particolare no in un periodo di di una pandemia che nessuno probabilmente l'anno scorso poteva mai minimamente pensarci è difficile in questo momento dire mettiamoci una mano sul cuore pensiamo al futuro perché mi mettono in panni di un presidente o di un allenatore di un dirigente che si ritrova all'improvviso retrocesso e e anch'io sinceramente ma un po' diciamo mi girerebbero ecco diciamo così poi da qui ai ricorsi non lo so però eh bisognerebbe trovarci trovarsi nelle situazioni per per capire esattamente come ci si trova è chiaro è chiaro che non è che retrocede la seconda in classifica eh quindi c'è una classifica che va a decidere in questo momento però onestamente sì mi aspettavo tutto questo tutto questo caos secondo me ci divertiremo giornalisticamente parlando parecchio eh nei prossimi settimane forse poco per lo spettacolo che daremo però va bene ho visto per un istante Guido apparire poi è scomparso Guido riprovaci perché forse è la volta buona era comparso l'ho visto per un attimo è fatto come Gesù era una visione celestiale quindi quindi sto quindi ho capito grazie Manzocchi sempre per aver sottolineato secondo me prendi il tuo vedere tra un po' da Guido sai che un po' che non ti vede quindi secondo me però sto lavorando molto bene Alpini addirittura si è ammutolito nessuno se n'è accorto che manca Alpini bene sai perché Dani perché il cartonato che si vede è uguale a quello di prima quindi non è cambiato esatto più o meno va bene poi ricordiamo che tra le piazze storiche che hanno fatto anche la Serie C coinvolti in questo caso per la zona retrocessione ci sono piazze importantissimi come Chieti e Avezzano non dimentichiamoci anche questo la stessa Iessina la Iessina in questo momento ieri leggevo su vari siti che praticamente sta cambiando qualcosa a livello societario quest'anno i vari problemi l'hanno condizionata nel corso della stagione perché la Iessina è la sua bella figura nel corso dei campionati direttantistici l'ha sempre fatta quest'anno le difficoltà a mio modo di vedere si sono viste come allora Guido adesso non lo vedo prima l'avevo visto con un istante vediamo se riesco a fare ancora qualcosa datemi due secondi ho proprio piacere di averlo tra di noi Mirko ci provo intanto vi faccio un'altra domanda ovviamente mentre provo poi a mettere a posto la regia dicevamo appunto per concludere il discorso della serie D Mirko ma come andrà a finire quindi secondo te queste squadre alla fine rimarrà tutto così invariato oppure retrocedono alla fine? qualcosa secondo me cambia diciamo che secondo me non andranno giù 36 io sono un po' dubbioso soltanto sul numero delle retrocesse nel senso che potrebbero magari mandare giù le ultime due per girone io rimango dell'idea che vista il caos totale che si è creato ritengo volutamente verranno tutte riammesse ho detto riammesse riammesse quindi ok ok ci siamo quindi nuovo ripescaggio ma riammissione per te come andrà a finire oltre a volere che si prenda una botta da quello che ho capito che hai detto stasera no no questo questo no questo no non lo voglio sportivamente parlando sì esatto sportivamente parlando io sono sono molto d'accordo con con quello che ha detto Mirko cioè anche secondo me alla fine strano sì strano perché di solito sono totalmente in disaccordo però stavolta sono sono d'accordo e penso che alla fine in qualche modo ci sarà una riammissione ecco però bisogna vedere quando cioè è tutto un discorso di tempistiche no in questo momento ci sono delle solità retrocesse ditemi se sbaglio quando verranno riammesse queste società perché una società che viene riammessa il 20 luglio potrebbe avere dei problemi a fare la squadra piuttosto che quindi bisogna che si mettano nell'ottica nel caso ci fossero queste riammissioni di avvertire le società per tempo così da prepararle all'iscrizione a fare la squadra ad attrezzarsi per una nuova stagione perché sennò diventa secondo me veramente complicato sicuramente ti do ragione per quanto riguarda i tempi se fanno tutti come stasera che praticamente di rimbalzo dal 28 di maggio decidi poi dal 15 al 7 di agosto siamo a posto hai ragione su questo lato qui non ti posso negare nulla Guido io per il momento non lo riesco a ricevere facciamo una cosa mentre Alpini continua a lavorare che sta facendo bene che non si vede bravo Alpini continua così invitiamo Noemi la chiamiamo in diretta quindi andiamo a scoprire il Grosseto stasera parleremo molto di Serie D Grosseto per quanto riguarda la Serie D ma anche poi lo ripeto basta Girardi e Agnone attraverso il nostro Michele Visco ok avvisato adesso Noemi vediamo se anche lei ha difficoltà ad entrare perché se anche lei ha difficoltà ad entrare vuol dire che abbiamo qualche problema quindi un problema o portato da Giacomo Alpini o dal nostro Matteo Zampini in secondo me non avrà problemi e il problema è Guido Sani però magari sbaglio io un abbraccio a Guido chiaramente adesso adesso a fare Guido ti viene a menare sicuramente allora aspettiamo appunto che si possa collegare anche Noemi qualora ci fossero dei problemi con Noemi Matteo ti chiedo gentilmente dalla regia di uscire perché dobbiamo dare spazio ovviamente ai nostri ospiti aspetta prima aspetta aspetta Matteo aspetta prima vediamo un attimo se riesce a collegarsi anche Noemi l'abbiamo contrattato adesso andiamo a parlare per l'appunto del Grosseto poi ripeto Olimpia Nionese Vasto Girardi e arriviamo a toccare tutte le categorie del calcio locale è ritornato Giacomo Alpini buonasera Alpini benvenuto tra noi sono tornato ma non vincitore purtroppo c'ha problemi Guido non riesce a riattivare la webcam il microfono ho provato anche a fargli riavviare il pc ma non riesce proprio a entrare non so lui ha detto che ci riesce a vedere ma non riesce te non l'hai visto per 30 secondi neanche giusto? no l'ho visto per 5 secondi come si è illuminato come te durante le trasmissioni ma scusate cosa mi sono perso perché io niente però posso dire una cosa posso dire una cosa perché Guido visto che Guido è del giurassico non vuol dire che deve avere delle attrezzature del giurassico attrezziamolo con cose un po' più recenti ecco vorrei dire questo beh questo ci penserà a Mariotti questo ci penserà a Mariotti Mariotti devi devi veramente fare un regalino anche a Mirko ciao e a Guido allora andiamo a vedere andiamo a vedere Riccardo Lachini visto che le cose si faranno lunga sarà difficoltoso anche il calciomercato visto che gli interessati non sanno che il campionato fare fino ad agosto è vero Riccardo sono d'accordo con te però speriamo adesso di avere una sentenza che non facciano come quest'anno allora aspettiamo intanto il corsito Giacomo vengo su di te che ovviamente ti ringrazio per l'assistenza fatta a Guido ti faccio una domanda e poi andiamo su Noemi che nel frattempo l'aspettiamo per poter entrare Giacomo parlavamo appunto di quello che è successo in SRED davvero tanto caos volevo capire anche il tuo punto di vista e soprattutto tu come vedi la situazione della San Maurese perché Protti sul giornale ha dichiarato state calmi perché noi siamo salvi tu come la vedi quella situazione lì? Ancora tutto da decidere a parte che bisogna vedere quello che verrà la decisione finale quindi la federazione quello che dice però tra lì è ancora molto in dubbio tra San Maurese e Crema io in questo momento non starei molto tranquillo quindi anche per il mister Protti magari consiglierei magari di attendere a fare certe dichiarazioni adesso bisogna vedere la decisione finale però la San Maurese qualche problemino ce l'ha bene bene Giovannini salutiamo e ci segnala le date della prossima serie serie D dopo le vedremo le vedremo qualora abbiamo tempo dopo la trasmissione per quanto riguarda invece le altre richieste aspettiamo che si possono collegare anche gli altri Giacomo ti faccio un'altra domanda visto che sei stato fuori abbastanza volevo chiederti anche il parere tu adesso sei andato sul girone che noi seguiamo da vicino con la nostra trasmissione per quanto riguarda invece la situazione globale che sta succedendo in serie D sei d'accordo con il blocco delle retrocessioni oppure che le squadre giustamente accettino il loro verdetto basandosi sulla classifica fino al momento dello stop non solo le retrocessioni anche le promozioni ovviamente cioè quello che dicevo un po' cioè quello che avevo detto espresso prima nel senso che a mio avviso se si fa una decisione che valga per tutto il mondo dell'etantistico ahimè le squadre dovrebbero accettarle è logico che bisogna vedere la riforma in che con che numeri la vogliono fare si parla di queste 16 squadre a girone e a scendere quindi bisogna vedere il numero delle squadre che ci sono per le varie categorie però bisogna che sia tutto uniforme già adesso se la serie D ha cominciato la prima promossa le ultime 4 giù sarà molto difficile che tutto il mondo dell'etantistico segua questa regola quindi alla fine io cercherei di ridurre se possibile le retrocessioni in maniera tale da cercare di fare una cosa univoca allora Matteo se vuoi far vedere anche qualche immagine per quanto riguarda appunto il repertorio che abbiamo fatto in questa regione che abbiamo realizzato con la trasmissione a livello di immagini fai pure che le mandiamo in onda poi ovviamente quando si collega Noemi so che hai delle immagini anche inerenti al Grosseto anche le foto che ha fatto lei alla squadra alla realtà di Grosseto aspettiamo ancora che Noemi ci possa collegare vedo che anche lei ancora non è riuscita ad entrare aspettiamo piano piano Mirko allora ti vuoi togli qualche sassolino o va bene così per quanto riguarda la categoria di lettanti se volevi aggiungere tu qualcosa visto che si parlava anche qui di date ecco quello che sta scrivendo anche Giovannini così io l'unica cosa che so a livello di date è che la stagione dei direttanti dovrebbe partire dal primo luglio 2020 e quella dei professionisti dal primo settembre 2020 esatto esatto non ci sono date di inizio anche perché volevo rispondere ad Andrea semplicemente perché non si sa ancora che format vi avvera fatto punto quindi non ci sono date l'unica data certa è quella del primo luglio nel senso che il primo luglio per i dilettanti inizierà la stagione 2020 2021 ma non ci sono date ovviamente legate al campionato peraltro notizia di poco fa che Spadafora avrebbe dichiarato che il consiglio federale è stato spostato dal 3 al 4 giugno poco male il male di un giorno quindi può essere che a questo punto il consiglio della Lega Nazionale di Lettanti venga spostato dal 5 al 6 perché era stato dichiarato di fare il consiglio federale eventualmente per i dilettanti due giorni dopo non il giorno dopo stesso quindi può essere che venga spostato a questo punto anche anche quello della Lega Nazionale di Lettanti di sabato quindi anche quello è altra cosa in l'ufficio è ufficiale il 4 il 4 dovrebbe essere ufficiale però scusa se ogni volta se ogni volta spostano i consigli cioè noi ci aspettiamo no? Mirko oggi ne abbiamo ne abbiamo parlato oggi pomeriggio noi ci aspettavamo qualcosa no? dalla giornata di oggi anche se io puoi confermare Mirko io ero molto scettico nel senso che non mi aspettavo praticamente nulla no? nessun verdetto nessuna a parte chiaramente la ripartenenza della serie A va bene però nient'altro dalla giornata di oggi e sì io credo che la C credo che la C avevamo il dubbio anche noi effettivamente perché sulla C ne abbiamo parlato temevamo che ci fosse un rinvio al Consiglio Federale effettivamente poi è andata così sì ma è questo il problema ogni volta c'è un rinvio a un altro Consiglio Federale e non si prendono delle decisioni si spostano i consigli federali successivi e non si prendono delle decisioni è un problema questo perché siamo arrivati al 28 maggio se non sbaglio e a parte la serie A forse il 20 giugno riparte per il resto ancora non sappiamo assolutamente nulla di nulla per tutti gli altri campionati questo è sicuramente un problema e va ad allungare ulteriormente la stagione c'è il rischio che non si finisca più quindi diventa complicato per fortuna che quello che è stato sforzato solo di un giorno ecco meno male anche perché quello prima era stato sforzato di due settimane è già una cosa diversa allora facciamo una cosa perché vedo che ha difficoltà anche Noemi ad entrare questa sera Matteo provo a uscire un attimo dalla regia solo tu noi rimaniamo dentro aspettiamo appunto che si possa collegare la nostra Noemi vediamo se il problema sei tu e poi riproviamo anche con Guido ciao salutati intanto Matteo rimaniamo ancora qualche secondo appunto su quello che stavate dicendo perché ovviamente è l'argomento che è stato diciamo trattato per la maggiore anche dalla cronaca nazionale sportivo è stato quello che è successo durante questi ultimi sette giorni in serie in serie D ragazzi per quanto riguarda appunto i discorsi cervellieri l'abbiamo centrato prima cervellieri il presidente della marignanese anche lui giustamente c'è la possibilità per quanto riguarda la sua squadra di salire in serie D qualche preoccupazione in più c'è ma in tutto questo caos questa domanda me la volevo fare dopo visto che si parla di serie D ve lo chiedo adesso le secondi classifiche parlavamo dall'altra settimana del corticella verranno ripescati in serie D oppure no solo le prime questo voglio capire da voi o promossi o promossi esatto sì io credo credo proprio di sì allora pare che come detto prima di certezze non abbiamo però io credo che per fare un esempio il corticella per dire un esempio che conosciamo facendo parte dell'Eccellenza di Urenbi andrà su io penso che penso che alla fine sarà così peraltro credo che insomma magari se qualcuno il corticella l'ascolta si stiano già anche attrezzando per la serie D nel senso hanno una vaga anche loro idea di fare la serie D non hanno la certezza però è chiaro che si vocifera che ci può essere questa promozione quindi si stanno anche attrezzando quindi sì io penso che le seconde dei gironi di Vicenza andranno andranno su così come le prime su questo sulle prime Mirko non c'è alcun dubbio sulle seconde credo che anche qui sulle prime credo che ci sia una certezza di fondo ma sulle seconde ma sulle seconde come ripescate eventualmente per cercare di colmare eventuali lacune buchi o di diritto perché devono essere comunque per cui dato che si andrebbe teoricamente col coefficiente punti perché sarebbe l'unica strada e visto che comunque qualche buco si aprirà sicuramente in serie D perché qualcuna anche se bloccano le retrocessioni sicuramente ci saranno delle società che chiederanno di auto-retrocedersi alla fine le mandano su tutte in un qualche modo vanno su tutte e poi come dice il buon Matteo Fratelli io ipotizzo è una voce che circolava di fare solo per il prossimo anno 16 gironi da 14 squadre per fare un campionato proprio interregionale dove le società potessero girare il meno possibile però con soltanto 8 promozioni in serie C no ma questo era però per il prossimo anno bisogna anche tener conto che per la per la sfortuna di Matteo che vuole di campionato 27.000 squadre il prossimo anno comunque i campionati tutti i campionati si punteranno molto sulle retrocessioni più che sulle promozioni sì ma infatti il concetto il concetto di base è proprio quello che hai detto si cercherà di evitare spostamenti lunghi quindi cercheranno di ridurre le squadre i gironi il numero delle squadre per girone per cercare di far questo io penso che questo sia un concetto fondamentale per la riforma che devono attuare fermatevi un attimo Alpini a Guido cosa le hai detto perché ho visto adesso se collegato con l'account YouTube si deve collegare con l'account di Facebook altrimenti non entra nessun ospite quando dai link c'è l'autorizzazione c'è l'account di Facebook e l'account di YouTube Facebook altrimenti non entrano gli ospiti io gli ho detto Facebook però probabilmente non ci è riuscito ancora e starà provando ok vedo che sta provando però adesso ho visto che è entrato tramite YouTube tramite YouTube non entra tramite Facebook lo dico a lui ma lo dico anche a Noemi altrimenti io non riesco a vedervi in regia andiamo avanti allora l'ora è tutto su Facebook e ho cercato di girarglielo io però vediamo vediamo se mi date una mano anche Matteo adesso provo a vedere se riesce con Noemi qualche altro messaggio se continuate a promuovere delle scuole non mi devi parlare in C ma vedi Alessio ha capito qual è il concetto di tutto perché gira rigira ma siamo noi che cerchiamo di rimandare su e fare questa riforma in maniera tale da promuovere il bell'aria vedi che Alessio ha già capito tutto grande Alessio bravo bravo Alessio allora proviamo intanto andando avanti con la scaletta vediamo se riesco a inserire Michele Visco a questo punto provo a superare uno dietro l'altro e poi li buttiamo tutti dentro se riusciamo ragazzi perché altrimenti non riusciamo a prendere gli ospiti questa sera abbiamo preso Gabellini Gabellini ha portato sfortuna per quanto riguarda la Serie C lui è entrato e Alpino ripete che stasera come si dice come diceva Don Abote sto matrimonio sarà da fa e sarà da fa ok allora andiamo a vedere intanto Alpini prima ripeto ti ho fatto parlare meno di tutti dai ti faccio dire anche a te a Matteo Pratelli se no non è contento cosa pensi di questo messaggio qui vai leggilo ipotizzando che le 36 di processo di eccellenza vengono riammesse in dis e questi 36 da Rizzi farebbero la parte dei possibili seri di giro da 46 squadre o i giro li potrebbero aumentare facendo due conti con 36 squadre in più magari 18 sempre da 14 grazie a Matteo Danimi ma io penso che il concetto l'abbia detto in maniera chiara Mirko quindi e poi cioè dobbiamo ancora vedere se effettivamente la la posizione della federazione è quella di fare questa riforma tutta adesso o in parte adesso quindi bisogna solo attendere bisogna solo attendere le decisioni ufficiali e capire cosa vogliono come vogliono muoversi però è facile parlare così dicendo che ha già disposto Mirko bravo bravo Alpini bravo bravo facile è facile allora ci saluta anche Costanzo Morena Alex Mirko Daniele salutiamo Costanzo ciao Costanzo grazie come sempre per scriverci qui in diretta sto provando anche con Visco vediamo se riusciamo a far entrare anche lui altrimenti stasera è un casino per far entrare gli ordini Gambellini ha portato sfortuna ha parlato dei limini calcio in questa trasmissione ha portato sfortuna peraltro vedi in onore di dov'è qua in onore di là di Gabellini c'è anche il il Gagliardelli non è che c'è quello non è che dobbiamo mandare Capitan Ventosa mandiamo Capitan Ventosa e magari c'è un qualcosa che col tuo team a controllare se c'è qualche problema di connessione può essere ma è strano è strano dopo Alpini ci svieni in diretta questo è bello questo è bello va bene va bene allora facciamo una cosa mentre aspettiamo che si collegano tutti quanti gli altri Matteo ti prego di rientrare in regia perché a questo punto il problema non eri tu ti collegati sempre così ci fai da regista che ho bisogno di un po' di immagini Alpini per quanto riguarda aspettiamo intanto che entrano gli ospiti della serie D per quanto riguarda la prima categoria giorni A che l'hanno buona per il Granata a questo punto sì io credo proprio di sì nel senso che se viene confermato il tutto la prima è il Granata e dopo gli ultimi anni che la vista protagonista penso che sia l'anno buono per la promozione in promozione quindi probabilmente nell'ambiente Granata già si sta preparando questo non sarebbe male come ho già detto quando c'è stato l'ospite del Granata vederli magari giocare allo stadio Moretti perché sarebbe una bella cosa rivedere il calcio che conta in uno stadio come quello di Cesenatico quindi io penso che Granata abbia sia sicuramente in promozione mentre dispiace per Spontricciolo e Verucchio Spontricciolo ha fatto un campionato esagerato perché è veramente esagerato numeri da capogiro con una media goal fatti esagerata veramente però ricordiamo una neopromossa quindi deve prendere di buono questo e poi bisogna vedere se ci saranno dei buchi da colmare non si sa mai visto che è seconda in classifica questo potrebbe essere una chance per il Verucchio dispiace forse era l'anno buono c'era ancora la possibilità visto che mancava ancora un terzo di campionato però in questo momento vedo sicuramente Granata in promozione qualche piccola speranza per il Spontricciolo in caso di ripescaggi ma per il Verucchio la vedo difficile per quanto riguarda invece la promozione Romagna tra poco andremo ad affrontare anche il discorso con Victor Endor che lui c'è stato protagonista per la prima parte di stagione non riesco a ricevere gli ospiti questa sera non so perché hanno problemi Matteo tu mi comunichi dalla regia ma io non li vedo qui in regia quindi non so dove li vedi tu io non li vedo non li vedo assolutamente allora continuiamo ragazzi vado con la scaletta proviamo a far entrare anche Victor Endor quindi facciamo un attimo il sorpasso diamo precedenza in questo caso alla promozione Romagna e poi ritorniamo sulla serie D andiamo sull'eccellenza chiedo a Victor di entrare in diretta vediamo se riesce anche lui se non riesce anche lui c'è un problema che non so quale sia in questo momento o interrompiamo per due minuti la diretta e proviamo a rigettarci dentro questo miscuglio dopo circa un'ora oppure non saprei come ripristinare il problema sì sì tra poco ti dico le bombe le bombe le dirà per quanto riguarda il calcio mercato il nostro Giacomo Alpini allora vediamo se riusciamo a far entrare Victor se anche Victor mi conferma che non riesce a entrare ragazzi c'è un problema per quanto riguarda l'applicazione questa sera quindi ci conviene un attimo uscire e collegarsi no per capire Alpini stasera hai delle bombe davvero sganci delle bombe Alpini fai sto colpo qua non lo so adesso vediamo perché ne dovevo parlare con Guido Sani Guido Sani non si è collegato quindi non lo so no dai qualcosina qualcosina c'è oggi qualche messaggio si è visto sui social qualcosa si muove adesso vedremo se sono bombe o no però riguardano squadre della nostra zona squadre che hanno fatto un campionato eccezionale quindi vedremo se può essere qualcosa di un valore aggiunto per la prossima stagione allora Victor lo vedo ragazzi Victor lo riesco a vedere quindi non è un problema nostro eccolo qui Victor questo è un miracolo peraltro Victor esatto finalmente buonasera ciao 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 questa sera dove sei sei sulla montagna sei sull'Eramo di Carpegna dove sei sono qua sono da Serbia è all'aperto lui è un grande ma dove sei sei in Pia dove sei dove sei Conte sono a casa no tanta roba tanta roba vuoi fare cambio appartamento senti Victor come stai innanzitutto tutto bene tutto bene grazie voi come state bene 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 meno male che ti sei collegato con loro non ce la facevo più non sapevo più di cosa parlare fra un po' parlavo di sicuramente sbagliano nel click perché bisogna cliccare o con Facebook o c'è scritto YouTube magari vanno su YouTube e sbagliano a cliccare quindi bravo bravo esatto 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 infatti bisognerebbe andare su Matteo ti chiedo dalla regia di contattare Noemi e Michele Visco così vi spieghi quella cosa che ha detto adesso anche Victor che ti spiegavo prima di cliccare al momento delle autorizzazioni su Facebook e non su YouTube perché altrimenti non riusciranno mai a entrare ok adesso ci può essere lui intanto manda le immagini di Victor perché Victor tu hai dato l'indicazione e lui si è dimenticato di mandarmi le tue immagini ti vuole bene sta ridendo sta ridendo Allora Conte lo annunciamo stasera so che c'è un importante comunicato ufficiale lasci il calcio adesso non mi sento benissimo è meglio io so solo praticamente dalla squadra dalla mia squadra che hanno deciso la federazione ha deciso che comunque Cailungo ha finito la stagione per il resto penso che fanno i playoff basta da quello che so io come ti sei trovato nel campionato sanmarinese Victor? ma una volta che ho firmato a San Marino pensa che è arrivato è arrivato il covid mi dispiace mi dispiace un po' perché comunque non ho dimostrato magari quello che potevo dare ho giocato poche partite poi sono arrivato nelle condizioni che non stavano neanche tantissimo bene fisicamente ho giocato tutte le partite quasi da infortunato al 40% mi dispiace un po' questo diciamo per il resto il campionato sanmarinese è un campionato che consiglio a tanti giocatori di provare perché comunque è un bel campionato ci sono tanti giocatori bravi che hanno giocato più in alto sicuramente è un campionato che con tutto il rispetto non è quello che magari si parlava in giro si diceva ecco tutto qua insomma per me è un campionato che è molto molto bello insomma allora intanto vi annuncio che vedo anche Michele aspetto solo Noemi siamo riusciti a mettere dentro anche Michele Visco ti vedo Michele stai tranquillo tra poco c'è anche Guido tra l'altro tra l'altro forse riesco a vedere anche Guido bella eh allora raccontaci un po' invece invece avevi iniziato è ricarico è ricarico con il Cervia poi non ho aspettato che tu andassi via cosa è successo ma io sempre stato te l'ho sempre detto sei sempre stato onesto Cervia rimarrà sempre comunque nel mio cuore non posso nasconderlo cioè è la squadra che amo tantissimo è successo che io giocavo per tanti anni ho giocato per passione qua a Cervia è arrivata questa proposta dal campionato sanmarinese dove sicuramente non potevo rifiutare e avendo comunque anche un'attività e tante spese eccetera è arrivata questa opportunità di andare a giocare a provare un campionato diverso però il cuore rimane sempre comunque a Cervia e avevamo fatto un inizio della stagione molto molto importante e sono andato via che comunque che eravamo se non sbaglio o terzi o quarti però ho lasciato tantissimi amici e comunque il cuore rimane sempre giallo blu insomma senti questa promozione romagna quest'anno per quei mesi che sei stata a Cervia come l'avevi vista tu? Avevi visto che era un campionato diciamo più più importante rispetto all'ultimo che avevi fatto oppure più o meno siamo sempre sulla stessa onda? Allora ti dico la verità il campionato dell'anno scorso era più forte cioè era diciamo più c'erano più squadre importanti insomma c'era il Ronco la del Duca c'erano dei giocatori che sicuramente quest'anno stanno giocando per vincere l'eccellenza e penso che comunque il campionato dell'anno scorso col Coriano era molto molto più più forte insomma di quest'anno poi ha vinto il Russi ma io non l'ho visto ti dico la verità bella squadra tutto quello che vuoi ma non l'ho visto diciamo forte come magari era il Ronco dell'anno scorso ecco qui il Ronco o magari la del Duca o il Coriano era squadre molto più attrezzate di queste che ho visto quest'anno poi magari mi sbaglio è il mio pensiero no no mi trovi mi trovi assolutamente d'accordo Giacomo hai una domanda per Victor tu che sei qui tu mi ha dato di promozione Romagna io ne ho più di una per Victor innanzitutto benvenuto Conte sento sempre la tua mancanza e te lo sai ciao grandissimo un abbraccio forte poi una cosa ho sentito quello che hai detto del campionato san marinese io pensavo che eri andato là solo per la maglia dietro scritto il tuo nome ma vedo che forse c'è qualcosa in più quindi anche anche ti blocco subito almeno ti rispondo su questa domanda da bambino l'ho già raccontato questa cosa non dico comunque che arrivi il campionato san marinese e sei arrivato nella serie A nella massima serie A però quando tu sono da bambino avere magari dietro dietro le tue spalle la maglia con il tuo cognome sono tutte cose che magari scendi in campo che ti danno qualcosa in più ma poi ti dico non ti nascondo perché ci sono state comunque anche il rimborso che magari dovevo prendere quest'anno che è lungo ecco bene ma quindi mi sembra di capire dai tuoi discorsi che probabilmente anche il prossimo anno delizierà i tifosi del Titano io questo non lo so dipende comunque dalla società io non so quanto ho fatto bene o meno sicuramente mi impegno sempre do il 100% sia in allenamento che in partita poi non dipende da me poi magari loro non sono contenti di me io prenderò altre strade questo non posso saperlo io ancora non ho parlato con la società sono sincero so che è stato esonerato allenatore che mi dispiace tantissimo gli mando un abbraccio forte che è una persona squisita una persona per bene però ti dico non ho ancora parlato con la società io sicuramente ho firmato solo per un anno con loro se le cose andavano bene da tutte e due le parti sicuramente avremmo rinnovato però non dipende da me ecco tutto qua io li potrei solo consigliare se c'è qualcuno dalla società che se vogliono vedere il vero Victor devono ottenere ancora un anno e poi vedranno che i risultati verranno sicuramente adesso sposto un po' la direzione Cervia ti hai detto bene quando sei andato via te erano terzi in classifica e poi è cominciato un periodo abbastanza nero era dovuto solo la tua assenza o a tuo video si rocca qualcos'altro nell'ambiente Cervia no 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 assolutamente non credo che sia stato questo perché comunque tra virgolette io non ero il giocatore fisso che giocava nei 11 tutte le partite ero magari un giocatore che poteva giocare delle partite importanti delle partite potevo stare in panchina magari entrando partite in corso sicuramente ero uno tra i 4-5 della squadra che facevano un gruppo e mantenevano anche i giovani per dare il massimo eccetera però non credo che sia stata la mia mancanza quello che è successo magari negli ultimi mesi ma è già da qualche anno che comunque quando arriva a marzo febbraio-marzo diciamo in casa Cervia inizia questa questa discesa che non si capisce il motivo all'inizio si parte sempre a bomba poi si inizia a calare bisogna vedere un attimino cosa c'è che magari manca in questa cosa qui e perché magari non c'è la concentrazione fino alla fine del campionato ma non dipende assolutamente dalla mia mancanza perché quest'anno sì ho fatto ho fatto dei gol importanti delle partite molto importanti però assolutamente no non dipende da quello che sono andato via io assolutamente no Giacomo no no però ascoltami ha inciso molto perché io quando vedo sono venuto a vedervi sicuramente anche se non partivi titolare però appena entravi cambiavi la partita e quindi molte volte riuscivi anche dalla panchina a cercare di spronare qualcuno che magari si stava un po' consentimi termine addormentando in campo quindi per me eri un uomo importante all'interno dell'organico cervia quindi alla fine la tua assenza per me è pesata però io una cosa strana di quest'anno è vero quello che dici che la primavera non aiuta il cervia calcio perché è capitato altre volte però quest'anno non me l'aspettavo quest'anno c'era da festeggiare il centenario quindi alla fine era un anno importante o sbaglio ma io non vorrei mai prendermi meriti perché sono partito diciamo ho fatto un settore giovanile molto importante a Ravenna e quando mi hanno detto praticamente quando avevo 18 anni di andare a giocare in eccellenza magari ero con il ragazzino che ti andava quasi a cagare per dire dove mi stai mandando poi dopo sono tornato con un'altra testa perché avevo quasi smesso di giocare ho iniziato dalla seconda categoria poi sono ritornato al cervia dalla seconda categoria e praticamente è stato come se fosse un sogno incredibile che si realizzava di nuovo perché ho iniziato a allenarmi di nuovo cioè praticamente sono successe tante cose perché mi ricordo anche il primo giorno quando sono tornato a cervia dalla seconda categoria in eccellenza ti dico è stato un passaggio più che altro di testa perché ho voluto ritornare lì praticamente dove magari mi mancava ecco quindi questa cosa qua l'ho legata tantissimo nei anni con il cervia calcio perché mi ha dato questa possibilità per quello che ti dico che magari non è successo qualcosa lì c'è qualcosa altro secondo me magari i ragazzi mollano mentalmente non lo so cosa può essere cosa può essere magari dalle seconda parti della stagione cosa possono succedere perché ci sono tantissimi giocatori forti in quella squadra è un peccato perché comunque io vi ricordo sempre il cervia dei campioni siete anzi sono arrivati un po' da quel salto che avevano fatto sono ritornati in categorie dove il cervia secondo me non merita di stare ecco tu hai raccontato benissimo questa realtà ti porto i complimenti di Maurizio Montalti che ti saluta e poi Luca Casadei che ti chiede come è stato giocare con Ceccarelli tanto saluto il mister Montalti che è un grande un grande persona mister un abbraccio mister e rispondo a Luca Casadei allora Ceccarelli l'abbiamo sempre visto in tv comunque era quel personaggio che vedevi che vedevi in tv magari ti sentivi un pochettino inferiore perché arriva Ceccarelli così ma è successo che è completamente un altro tipo di ragazzo che possa sembrare e alla fine è nata un'amicizia pazzesca che ci sentiamo ogni giorno facciamo grandi aperitivi insieme vieni a trovare il negozio c'è un'amicizia è nata un'amicizia veramente è un ragazzo splendido mi fa piacere comunque se vuoi fare sempre cambio appartamento io ci sto io vengo lì vengo lì a te e tu vieni qui Victor ti lascio andare perché abbiamo Noemi e Michele che stanno aspettando da un po' do la procedenza anche a loro un abbraccio fortissimo e mi raccomando ti aspettiamo in studio a 7 gold un forte abbraccio un forte abbraccio a tutti ciao 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 allora facciamo entrare adesso sia Noemi che Michele e quindi parleremo del girone F di serie D ma anche del girone che ha visto protagonista la nostra Noemi con i grossietto intanto Noemi ciao Noemi dici se ci senti la vediamo la vediamo non ci sente non ci sente Noemi allora dovresti provare a uscire e rientrare Matteo scrivi intanto dalla regia intanto facciamo entrare anche Michele Michele buonasera intanto Michele buonasera Daniele buonasera a tutti voi buonasera anche a Mirko buonasera a tutti mi sentite voi sì 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 noi ti sentiamo perfetto dal Molise non abbiamo problemi tecnici unica positiva senti ho trovato una foto che noi giocavamo con Francesco Laurelli il nostro amico comune accoglici se anche tu l'ho trovato e te la faccio vedere stasera in diretta questa la devo vedere adesso la faccio vedere ce l'ho qui attaccata ce l'ho qui attaccata nello studio mi metterò anche gli occhiali per vedere bravo 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 innanzitutto come stai? sto bene stiamo bene fortunatamente diciamo che questo virus in Molise fortunatamente ci ha toccato poco quindi abbiamo avuto solo dei relativi problemi a livello sportivo purtroppo è andato un po' tutto così ma destramente noi stavamo come pastogirati stavamo facendo veramente una grande stagione da neopromossa purtroppo ci siamo fermati sul meglio perché probabilmente la squadra stava iniziando in gran area proprio adesso a febbraio eravamo al massimo della forma e mister Farina l'ho anche ribadito nei giorni scorsi ci siamo fermati sul più bello però io concordo ho seguito la trasmissione dall'inizio concordo con tutto quello che è stato detto fino adesso la salute è la cosa principale di certo adesso vanno tutelate le società vanno tutelati i presidenti che fanno degli investimenti ma vanno tutelati anche i calciatori perché praticamente anche noi abbiamo ragazzi che vivono di calcio e fortunatamente fino a febbraio sono stati tutti pagati adesso dovremmo organizzarci anche noi per sistemare tante cosette io lavoro con i Vastoggiardi da quattro anni da quando hanno fatto il primo campionato di eccellenza l'hanno perso con l'Isernia e poi dalla cavolcata trionfale che c'è stata due anni fa con la vittoria in eccellenza con il massimo di tutte le vittorie ottenute senza sconfitte è una realtà piccola 600 persone quindi abbiamo una media spettatori di 15-20 persone ogni partita in casa quindi se vi fate due conti capirete che è veramente difficile e che facciamo facciamo la trasmissione nostra lì da te a Vastoggiardi a questo punto che già dovreste fare una micchiavole colta mai Michele dovreste fare una micchiavole colta mai che sono 150 abitanti no ma il problema gli spiego sono 600 abitanti però noi abbiamo anche un altro problema che Daniele conosce non abbiamo il campo sportivo cioè ce l'abbiamo ma non è omologato per la Serie B stiamo giocando a casa dell'Agnonese quindi dell'Olimpia agnonese quindi facciamo una partita noi in casa poi giocavano ci alterniamo e quindi Vastoggiardi da Agnone sono vicini come località sono a 20 minuti di macchina però calcolate che il 98% degli abitanti di Vastoggiardi ha un'età superiore agli 80 anni 70 anni quindi al campo non è che vengono in moltissimi ci sono dei giovani che seguono anche della provincia di Sernia dai Sernia vengono a vedere quando c'è il derby poi con l'Agnone col campo basso il cimitele si riempie però è una realtà difficilissima far ripartire un campionato del genere per noi anche se avessero dato un ok sarebbe stato impossibile perché abbiamo un medico che viene a scavalco un mezzo magazziniere mezzo a detto stampa che sono io quindi siamo veramente pochi e non si potrebbero rispettare i protocolli ma penso che qualsiasi società della Liga Nazionale in realtà è quasi impossibile qualcosa penso che abbia trovato anche il nostro Matteo con le immagini dei colleghi di Telele Molini Noemi ci senti adesso ora sì ora vi sento buonasera a tutti ciao un abbraccio non mi prendere per i maleducati ho provato in tutti i modi a farti segnali di fumo ma non riuscivo a comunicare con te prima le donne e poi gli uomini sono dovuto andare su Michele Visco purtroppo non c'è nessun problema è stata un po' una connessione trafficata stasera è stata dura però ce l'abbiamo fatta no infatti ho visto Guido ancora non siamo riusciti a farlo entrare in mieco quindi mettiti l'anima in pace ha problemi con la camera ha problemi con la camera non riesce non riesce a entrare ecco come l'hai detto il problema con la camera mi ha messo un po' di ansia però va bene Noemi arriviamo a te allora raccontati un po' questa realtà perché ti spiego tre domande ce le ho già pronte perché secondo me sono le particolari curiosità che riguardano l'ambiente che tu hai il modo di vivere la prima è questa ho letto praticamente anche sull'insert che mi ha regalato lo scorso mese che ha fatto il guerin sportivo che avete una sorta di casa dove fate crescere se così vogliamo dire i bambini dai più piccoli per poi farli coltivare i sogni di arrivare fino alla prima squadra ho visto anche le foto ti faccio i complimenti le bellissime foto che tu hai realizzato spiegaci un po' questo progetto in che cosa consiste allora questo progetto in realtà non è una cosa nuova per la città di Grosseto in realtà è un progetto nel quale stavamo già lavorando da cinque anni poi per i terburocratici un po' rallentati come spesso succede in Italia diciamo le cose si sono protratte un po' a lungo però siamo molto contenti perché siamo riusciti a realizzare questo centro sportivo che per l'appunto abbiamo chiamato la nuova casa del Grosseto e nel 2019 siamo riusciti a dar vita a questo sogno che sembrava impossibile fino agli anni passati è stata è stata una bella sorpresa una bella rivelazione anche perché comunque la nostra è una grande città la nostra società soprattutto ha un blasone molto importante si porta sulle spalle e per noi realizzare questo centro sportivo che possa unire dalla prima squadra fino ai giovanissimi alle scuole calcio e fare tutto un percorso continuativo è seguito non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche sotto il punto di vista dell'educazione sportiva calcistica per chi vuole ad esempio ci sono anche dei corsi di catechismo è diciamo un percorso a tutto tondo non soltanto specifico per quanto riguarda il calcio e poi soprattutto la cosa insomma al fiorall'occhiello è stato proprio il voler creare un ambiente familiare nel senso lì veramente ti senti ti senti a casa e io penso che un progetto in questo modo forse è da altre categorie e forse ora da serie C come ci meritiamo infatti ti volevo chiedere per l'appunto è stato un campionato difficile visto che avete prevasso sul monte monterosi di due lunghezze la società ci ha sempre creduto alla fine covid-19 permettendo la vittoria di questo campionato oppure diciamo che si voleva fare sì il salto però magari in maniera più graduale non so in due anni ma sicuramente allora noi ci eravamo prefissati di fare un campionato tranquillo non ci aspettavamo ecco di arrivare così in alto però devo essere sincera da un certo punto di vista dopo la partita con il Bastia nel quale siamo riusciti comunque a rimanere nella scia della classifica visto che il monterosi era avanti a noi penso che da lì c'è stata proprio la voglia e la consapevolezza nel fattore che potevamo insomma giocarcela fino alla fine e poi indipendentemente da quello che è successo infatti della pandemia penso che comunque saremmo riusciti a vincere lo stesso questo campionato altra cosa abbiamo visto che all'interno della vostra società sono molto attivi i tifosi che collaborano aiutano quindi praticamente in grosso come dicevi tu questo nuovo progetto porta la partecipazione un po' di tutti no? assolutamente infatti un'altra cosa fondamentale infatti di questo centro sportivo è proprio il fatto che i tifosi sono parte integrante i tifosi non sono visti come un pericolo come purtroppo generalmente si tende a parlarne bensì loro attivamente lavorano e collaborano con noi sotto il punto di vista di piccoli lavori magari anche al centro sportivo per quanto riguarda anche per dire anche la sottoscrizione degli abbonamenti ecco si danno molto da fare e non solo durante le partite perché comunque abbiamo sempre un gran seguito anche in trasferta ma anche appunto sotto il punto di vista dell'organizzazione tu rappresenti oggi una società che come dicevo l'altro giorno quando ci siamo sentiti conosciuti per la prima volta ha rappresentato anche la serie B oggi ti chiedo quanto manca quel tipo di campionato la città di Grosseto e qualora questa società se sarebbe pronta appunto ad affrontare anche un campionato del genere è vero un passo alla volta visto che avete ottenuto prima la serie C però ti chiedo vedendo anche tu che ci lavori dentro l'organizzazione che avete attualmente i tifosi come rispondono se Grosseto sarebbe pronta nuovamente a vestire quei campionati a rivettire il campionato indubbiamente diciamo che sarebbe un sogno poter ritornare appunto in serie B non sarà semplice ce la metteremo tutta e diciamo ad oggi sarebbe sarebbe veramente un sogno sarebbe veramente un sogno e io penso che di questo passo potremmo potremmo riuscire a realizzarlo anche se insomma già siamo molto molto soddisfatti visto che abbiamo vinto comunque due campionati in due anni e insomma i risultati sono soddisfacenti ecco adesso Noemi ti faccio sorridere perché in questa chat siamo uno due tre non so Michele ma con te quattro milanisti alpini alpini promosso napoletano tutta la vita com'è alpini promosso Noemi milanista come me e te stra promosso non promosso stra promosso ma zocchi non ho capito cosa ha detto Michele Michele anche te napoletano 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 no ci sta ci sta ci sta grazie soprattutto una pulimina se vi percorriamo i tempi degli anni ottanta erano super sfide Marzocchi promosso Noemi assolutamente sì grazie Noemi se lo dice Marzocchi allora puoi star serena grazie volta e risposta Grosseto basto girarvi iniziamo da Grosseto siete d'accordo su quello che è successo per quanto riguarda questo caos della Serie D siete favorevoli o contrari al blocco delle retrocessioni Noemi beh indubbiamente è una situazione imprevedibile quindi io penso che la decisione che sia stata presa sia corretta anche perché mi rivolgo soprattutto non tanto sul fatto delle retrocessioni ma anche nell'ambito dei playoff perché comunque mi rendo conto che noi siamo contentissimi e tra l'altro comunque sul campo abbiamo dimostrato forza abbiamo dimostrato quella 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 grinta in più per poter vincere il campionato ovviamente nel momento in cui è stata congelata la classifica eravamo comunque avanti di due punti però mi rendo conto che sono situazioni difficili e sotto il punto di vista infatti anche della retrocessione penso sia la scelta più giusta intanto Matteo ci fa vedere un retroscena tuo a San Siro in versione tifosa ti vuole bene Matteo Matteo fa il bravo comportati bene stai a bada stai a cuccia anche perché anche perché tengo a precisare che comunque questo affetto a questi a questi colori bianco rossi dura da parecchi anni ma devo ammettere che sono di Milano e diciamo sono cresciuta sui gradoni di San Siro poi con tramite un trasferimento di qualche anno fa sono approdata diciamo in Toscana e ho iniziato prima come dirigente accompagnatore partendo proprio dai minimi delle categorie dalla terza categoria fino ad arrivare piano piano con il grossieto nella quale sono diventata fotografa e poi giornalista e tuttora dirigente sportiva ottimo bellissimo percorso complimenti grazie andiamo a passaggiarvi Michele contrario o favorivo del blocco delle retrocessioni allora ribadisco io perseguito anche prima e perseguito anche oggi il problema di fondo secondo me è rappresentato da quello che vengono a vivere le società dopo queste decisioni purtroppo io non mi metterei nei panni di tanti presidenti oggi o domani e come diceva pure Mirko prima nelle prossime settimane nei prossimi mesi sicuramente ne vedremo delle belle sono favorevole per quel che riguarda il blocco delle retrocessioni ho purtroppo rammarico e lo dico chiaramente in in trasmissione non aver potuto vedere forse una cosa storica per il Molise l'ultima giornata di questo campionato di Serie D avrebbe visto il derby tra il Campobasso e il Vasto Girardi io sono sicuro al centocinquanta per cento che il Campobasso avrebbe festeggiato il salto di categoria perché Materica lo avrebbe superato nel corso delle restanti giornate perché era molto in frenata e noi avremmo potuto festeggiare una salvezza veramente meritata purtroppo adesso la prima naturalmente che è il Materica giustamente se l'è conquistato sul campo e quindi deve passare non so per quanto riguarda poi di pescaggi quello che potrà accadere ma comunque vivremo settimane caldissime davvero comunque se ci sentono i nostri amici Serdini che io e te ti fiamo Campobasso e ci meno non si puro quindi preparati non è questa è è un amore proprio per il proprio territorio o Campobasso o Venafro o Serna io sono ma tu lo sai e lo dici a me lo dici lo so Mollisano trappiantato Mollisano trappiantato a Rimini vedi tu vedi tu Alpini Marzocchi e Mariotti se avete curiosità per Noemi e Michele vi ascoltano vi lascio la parola iniziamo da Marzocchi anzi da Alpini dai Alpini Alpini per una volta benissimo no io volevo innanzitutto sono due ne promosse quindi penso che da fare i complimenti a entrambe poi una quella di Noemi Grosseto che riesce a fare il doppio salto doppio complimenti per Noemi io so che è una squadra abbastanza giovane mi sembra che l'età media sia sui 23 anni quindi per affrontare il prossimo campionato di Lega Pro ci sarà una rivoluzione masticcia si punterà molto sui giovani che avete che avete fatto crescere io faccio due nomi c'è Moscati che non è più giovanissimo che è il bomber della squadra che ha 13 13 reti ma c'è anche Boccardi giusto che si è messo in evidenza sì allora indubbiamente la nostra filosofia è quella comunque per l'appunto legandomi ancora al discorso del centro sportivo quello di far crescere di dare modo di potersi sviluppare nel migliore dei modi i ragazzi locali quindi è quello sul quale puntiamo e l'altra filosofia nostra comunque comprende il fatto del valorizzare per l'appunto i giovani sicuramente Moscati non è proprio di primo pelo però è un ragazzo molto volenteroso e molto bravo che ha dimostrato tanto anche quest'anno e io penso che comunque rimarrà rimarrà nei nostri nei nostri nei nostri piani anche per l'anno successivo Boccardi è un altro giovane grossetano che anche lui ha dato sfoggio di una grande forza fisica e mentale soprattutto perché penso nel calcio indipendentemente che è importante sia la la prestanza fisica e la bravura con i piedi faccia tanto la differenza al fattore testa e anche lì ha dimostrato di essere per quanto comunque giovane nella sua età ha dimostrato grandi doti calcistiche un altro giovane che spero e apro una piccola parentesi sicuramente quello sul quale puntiamo ora ancora è presto chiaramente ci stiamo lavorando però puntiamo tanto sul mantenere comunque la stessa struttura di squadra che c'è stata finora perché comunque abbiamo avuto dei bei risultati e siamo molto contenti dei nostri giocatori sicuramente sarà necessario un innesto anche di qualche ragazzo di categoria però tendiamo a basarci sempre sui giovani questo è fuori discussione un altro elogio che vorrei fare visto che comunque sono stati fatti due nomi importanti vorrei vorrei tirar fuori anche il nome di Sersanti che è un altro ragazzo bravissimo giovanissimo che se non ci fosse stata la pandemia di mezzo avrebbe disputato comunque il torneo di Viareggio insieme alla Fiorentina c'è un grande interessamento da parte della Fiorentina e noi speriamo che rimanga con noi però sarà molto difficile farlo restare Matteo sta mandando le immagini relativa al Grosseto va bene Noemi sì queste qui che vedi ho avuto scusate un ritorno Davido non ho sentito bene Matteo sta mandando le immagini del Grosseto sono queste qui quelle di questa stagione mi confermi? sì 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 questo è praticamente un emittente una testata online di un'altra una pagina che è Grosseto Sport non è il nostro canale Facebook ufficiale abbiamo per l'appunto infatti volevo dire anche questo tramite Marco insieme a Marco Bigozzi quest'anno perché io faccio parte del Grosseto prima da esterna collaborando con un'altra testata giornalistica online per la quale ho iniziato a fare le foto e ho preso il testino da giornalista mentre quest'anno diciamo sono cambiate un po' le carte in tavola e insieme a Marco Bigozzi abbiamo sposato questa causa nel voler creare per l'appunto un sito che fosse che fosse a tutto tondo ci stiamo ancora lavorando per quanto riguarda il sito mentre abbiamo sviluppato soprattutto quelli che sono i canali ufficiali quali Facebook e il profilo di Instagram sotto S Grosseto 1912 il medesimo nome e speravamo per l'appunto che col fatto anche del centro sportivo riuscissimo a fare una cosa un po' più un po' più completa con l'anno prossimo sicuramente riusciremo a sviluppare bene anche il sito nel quale si potrà anche interagire non soltanto dal punto di vista dell'interazione sul muro magari per i tifosi o per quanto riguarda gli aggiornamenti chiaramente della prima squadra del settore giovanile e quant'altro ma ci sarà anche uno spazio dedicato anche alla prenotazione per esempio dei campi perché abbiamo la fortuna di avere questo centro sportivo con più campi per i quali possono essere anche prenotati per calcetto anche per i ragazzi amatoriali ecco che giocano a livello amatoriale o per la sottoscrizione ad esempio anche di abbonamenti e biglietti e per la prenotazione delle visite mediche visto che all'interno del centro sportivo c'è anche una zona dedicata proprio ai poliambulatori medici vedo vedo Guido Sani e questa è la notizia positiva di questa sera tra poco lo metto con noi perché tu dicevi non mi fa mettere l'ospiti ma tra poco lo metteremo online lo andiamo ad abbracciare Noemi da casa arriva questo complimento complimento al Grosseto che torna meritatamente in Serie C dove dovrebbe stare sottolineo le prestazioni di Boccardi che credo possa rimanere anche in C a mio parere uno dei migliori giocatori del Grosseto Beh indubbiamente quest'anno è difficile comunque mettere sulla bilancia chi è stato migliore o peggiore io penso sempre che la mentalità di squadra vince su tutto quindi dove magari zoppica uno compensa l'altro quindi io faccio i complimenti ai miei ragazzi e siamo tutti soddisfatti dell'andamento del campionato e del trionfo appunto meritato sul campo Michele questa qui è una bella domanda il Vasto Girardi può sognare la Serie C mi dà l'idea di essere un sodalizio molto ambizioso chiede a Michele grazie Matteo Dalimi Beh dovrebbe arrivare uno zang di turno per poter fare la Serie C qui no allora io quello che il messaggio che vorrei far passare è che noi già stiamo discutendo della prossima stagione il presidente Andrea Di Lucente che ha investito tanto negli anni per fare calcio in Alto Molise e sapete che in queste aree interne di montagna fare calcio è molto difficile il campo del Vasto Girardi l'impianto sportivo che fortunatamente è stato rivoluzionato per il prossimo anno sarà pronto è a 1200 metri d'altezza quindi pensate che d'inverno lì si gioca raramente anche con il sintetico quindi anche con l'impianto pronto stadio con una tribuna che può ospitare 2000 persone sala stampa eccetera eccetera avremo comunque dei problemi gestionali durante il periodo invernale e saremo costretti comunque a peregrinare lui è stato chiaro la prossima stagione noi ci saremo rifaremo l'arbitro tranquillamente però ci sarà una diminuzione del budget almeno del 50% quelli che verranno riconfermati sicuramente si sta trattando in questi giorni con il mister ma il mister uomo di serie D grande conoscitore mister Francesco Farina della serie D ma soprattutto farina è tanta roba farina è tantissima roba io quando parlo con mister Farina ho paura perché lui conosce tutti i calciatori che disputano la serie D di tutti i gironi è impressionante hai parlato bene il napoletano per parlare con Farina sì sì no ma parliamo anche ormai in dialetto in dialetto di Sernino o di vasto in Girardi quindi si sta abituando sono due anni che sta con noi no ma la cosa bella è che lui sa sa tutto di tutti essendo un uomo navigato avendo fatto la serie C avendo fatto la serie D avendo fatto l'eccellenza per tanti anni parli del girone I del girone H lì c'è quello quando arrivano in settimana si prepara la partita lui conosce tutti i giocatori dell'altra squadra senza che andiamo a vedere su internet a spulciare i siti web delle formazioni o andare su Facebook eccetera eccetera è mostroso noi contiamo di riconfermarlo e con lui sicuramente uno dei reparti che in questi ultimi anni nel vasto girone ha fatto la differenza che è la difesa e due difensioni centrali il capitano Sergio Ruggeri e Vladimir Mikhailovsky russo che ha giocato all'intenzione C sono due perni che verranno riconfermati però poi dobbiamo vedere dobbiamo conservare un po' di giovani di prospettiva e speriamo di riuscire a mantenere il puntero la punta d'oro che Giovanni Chiere Matendi che si è fermato a quota 15 o 16 non mi ricordo ma ha sbagliato anche 4 rigori quindi sarebbe stato a 20 reti cioè una cosa mostruosa per un quarto campionato e mezzo neanche anzi mezzo campionato quindi speriamo bene di poter almeno riconfermare questo la dirigenza più o meno io approfitto anche per per citarvi sono il direttore generale Antonio Crudelli il direttore sportivo Giorgio Mario Lucci Palermo e poi ci sono il segretario Giovanni Di Vigo insomma è una struttura molto ben organizzata che lavora con gli stessi uomini da diversi anni è stato tutto riconfermato certo adesso dobbiamo riorganizzarci dobbiamo capire se e quando ripartirà il prossimo campionato se possiamo giocare già da noi a Vasto Girardi o fermarci ad Agnone a Disernia per poi proseguire nel nella nostra nel nostro cammino ecco approfitto per dire che noi lavoriamo invece tanto sui social abbiamo profilo che sta dimostrando il profilo Instagram che è Vasto Girardi Calcio la pagina Facebook Vasto Girardi Calcio il sito Vasto Girardi che quest'anno con il mio lavoro ha subito un restyling certo adesso da qualche settimana sul sito non stiamo mettendo niente però il comunicato di stampo ufficiale li passiamo anche lì certo è dispiaciuto a tutti poi noi abbiamo una cosa che forse ci differenzia da tutte le altre squadre di Serie D abbiamo probabilmente l'unico gruppo di ultradonne le ladies sono un sì sì questa è una cosa bellissima no no ce l'ha anche il Noemi mi dispiace ce l'hanno pure il Grosseto Noemi che è tutto avventito questo proprio non transico perché abbiamo un gruppo di ragazze sfegatate che sono le ragazze del telefone assolutamente Noemi da noi fanno delle cose non ricordo Noemi lui è numero due noi da noi partono col pulmino affitto nel pulmino fanno pure 600 km di trasferta per l'amore di quella maia Per quello non è mai stato un problema perché anche in Serie B è sempre stato così glielo posso assicurare è un qualcosa fuori dal comune quindi siamo contenti di avere queste persone che ci credono che hanno anche contribuito e aiutato anche economicamente nei periodi ci sono altri sponsor tra virgolette se li vogliamo chiamare così che hanno aiutato questa squadra dal Canada dagli Stati Uniti quindi il legame col territorio è forte speriamo che lo sia anche per la prossima stagione senza problemi ti faccio una battuta perché so che tanto non te la prendi come ha presentato Noemi tutta bella professionale grossita abbiamo il sito facebook tutto quanto a vedere te l'avrei detto dopo no pensavo che mi dicessero non avevano anche i soldi per la carta e per la pedda però no abbiamo tutto abbiamo tutto devo dire che mi fanno fare un lavoro massacrante però lo faccio volentieri non sai che ti voglio bene però assolutamente aspetta dico anzi dimmi prego prego tornando poi al lavoro che si fa di domenica in domenica non posso scordarmi un episodio di questa di questa stagione sono sul gruppo della serie D che gestisce Mirko aggiornamenti vari delle partite in maniera continua non mi ricordo con chi giocavamo c'era un un dirigente del o del Chieti o di un'altra squadra una partita in caso questi ci hanno visto è quello che aggiorna il gruppo ogni secondo appena succede qualcosa quindi diciamo che stiamo anche ci stanno notando anche per l'organizzazione ecco ed è importante bravo no 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 e poi non è facile fare calcio in Molise questo io lo so perché sono difficilissimo faccio i complimenti a te tutta la società Marzocchi e Mariotti Noemi e Michele vi ascoltano se avete le domande anche voi prego Marzocchi no io volevo solo chiedere insomma per chiudere il discorso su questa stagione volevo da entrambi un po' ne hanno parlato però anche un giudizio sui rispettivi sui rispettivi gironi sulla qualità che hanno che hanno trovato e sulle squadre che hanno trovato eccetera eccetera parte a chi vuole insomma Noemi Noemi prima le domande grazie prego indubbiamente diciamo che sulla carta forse come nome e come blasone probabilmente partivamo da favorita però devo essere sincera tutto sommato ci sono state volte in cui abbiamo zoppicato un po' forse più per demerito nostro però non voglio peccare di superbia anche perché poi Grosseto chiaramente la sento nel cuore la rappresento sarei poco imparziale sotto questo punto di vista sicuramente posso dire con certezza che purtroppo avendo vissuto le vicissitudini dell'annata quella mezzannata che abbiamo avuto poco prima del tracollo sotto sotto la presidenza americana ecco sotto la sotto pincione che c'è stata nel 2016 diciamo che a parità di livello proprio tecnico di girone probabilmente quell'anno era un girone un po' più un po' più tosto rispetto a questo ma non non che questo sia stato una passeggiata indubbiamente diciamo che come ripetevo anche prima il fattore testa è la cosa è la cosa più importante e il gruppo unito unito al fattore testa porta a questi successi ecco mi chiede? ecco noi per fare una battuta sulla carta non partivamo proprio ci davano ci davano tutti per per spacciare sapete la cosa bella è stata questa vedere dal ritiro estivo che abbiamo fatto in Abruzzo creassi questa amalgama tra questi calciatori quelli più esperti quelli meno esperti e i giovani che Farine è andato a pescare nei vari campionati che lui conosce bene anche eccellenza campana eccellenza laziale poi con il passare delle settimane si sono visti i frutti insomma le prime vittorie i primi pareggi i primi punti il l'umore che saliva certo se dovesse analizzare la classifica attuale penso che è molto veritiera perché in materica fino a quel momento comunque anche se stava perdendo un po' di grip un po' di forma l'ha meritato quel primo posto il campo basso è partito malissimo purtroppo e ha perso quei punti che poi non gli hanno permesso di stare in testa alla classifica comodamente la recanatese invece era partita veramente forte e poi non abbiamo parlato per niente dei cugini e dei fratelli dell'olimpia agnonese ma io se dovessi dire chi è la rivelazione di questo girone oltre il vasto girardi che nessuno si sognava parlerei proprio dell'olimpia agnonese che comunque è sesta in classifica e ha fatto delle partite io li ho seguiti ha fatto delle partite micidiali quando noi non giocavamo in casa andavo a vedere loro devo ammettere che sono stati bravi lì poi si fa Serie D da oltre dieci anni quindi sono una piazza stabile del campionato nazionale di Serie D sanno come lo devono fare sanno dove devono andare a pescare quest'anno hanno pescato molto in Francia nella nuova Guine hanno preso dei calciatori che sono veramente terribili hanno due colore sulle fasce che fanno veramente il bello e il cattivo tempo quindi sanno come farlo e lo sanno fare anche a costo molto moderato quindi sono bravi il presidente Colazzi è stato bravo a circondarsi di persone che sanno gestire queste situazioni e non vanno mai in panne no no sono d'accordo con te perché comunque senza offesa perché il vasto girato l'abbiamo conosciuto quest'anno in Serie D sono l'unica realtà molisana che pure è stato un paese di 5.000 abitanti e ricordiamo Agnone dove si fanno le campane in tutte le chiese d'Italia per chi non lo sapesse a livello di cultura è l'unico l'unica realtà molisana che va avanti da 10 anni a questa parte poi abbiamo i trivento sappiamo tutti che fin l'hanno fatta la stessa isena e termoli sappiamo tutti va bene Michi io ti ringrazio per essere intervenuti in questa diretta chiaramente io te ci vedremo anche giù in Molise spero che un giorno verrai a trovarsi quando sarai ospite in vacanza qui a Rimini anche nei nostri studi va bene diciamo che io ho fatto tante vacanze da voi quando ero più giovane sono passati gli anni adesso quindi la riviera romagnola la rivedrò forse nel futuro con la famiglia comunque assolutamente quando ci farà c'è quella l'importante che la rivedrai Mariotti mi stavo dimenticando di te scusami Michele faccio una domanda ad entrambi anche se è differente intanto il bello il bello il bello che comunque adesso qui abbiamo rappresentate due realtà completamente diverse la grande grossetta la piccola vasto Girardi che comunque è il bello della serie D una serie D che come abbiamo già detto tante volte ha bisogno di essere un po' risistemata io in primis per galanteria parto da Noemi Noemi vive una città che comunque ha visto la serie B ma transitata come ha spiegato prima anche in una situazione anche abbastanza complicata a livello societario però mi sono reso conto io ero a San Martino in Rio tre anni fa quando il grossetto era in copitale dilettante contro la polvere rubiera anche perché in quel periodo dilubiava quindi era impossibile giocare a rubiera e una cosa che non è mai mancata è il pubblico al grossetto almeno quello che mi è sembrato di capire perché anche in situazioni di questo tipo comunque il pubblico si era mosso lo stesso e questa è una cosa molto bella assolutamente quella infatti è diciamo forse la forza motore che ci fa dare ancora di più di quello che veramente effettivamente questi ragazzi possono dare io penso che una tifoseria che comunque anche in eccellenza ci ha sempre sempre supportato e sempre seguito così come ha continuato chiaramente anche in Serie D io non posso che fare i miei complimenti e un applauso a tutti i ragazzi che macinano chilometri e mettono soldi di tasca per coreografie per biglietti per pullman per organizzare anche feste sono grandiosi sono veramente qualcosa di imprescindibile per l'appunto infatti il fatto di aver creato questa casa del grosseto a Roselle il centro sportivo è stato anche la realizzazione esatto di quel sogno di cui parlavamo prima ma proprio per inglobare per accrescere ancora di più questa famiglia inserendo e cercando di portare sempre più tifosi all'interno come parte attiva di questo gruppo così speciale non trovo altre parole per definirlo invece Michele volevo chiedere prego 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 no dicevo a lei dicevo a lei no ci mancherà sei stata già ingaggiata da alcuni tifosi del Rimini che dicono se fossi del Bellaria manderei Alpini che è il nostro opinionista grossetto e mia Bellaria quindi Giacomo rassegnati prego Mario vai no dicevo volevo chiedere invece a Michele che comunque vive una realtà clamorosa insomma nel Molisano dove comunque non è facile fare calcio e insomma negli anni lo raccontava anche Daniele che insomma conosce molto bene il territorio è molto complicato ecco anche immagino che sia anche molto importante anche il sostentamento economico perché comunque senza di quello e senza l'idea portare avanti una società di 150 abitanti o su per giù non è non è semplicissimo eh credo che ci siano tante aziende che diano una mano comunque alla società immagino sì noi abbiamo la fortuna di avere un presidente imprenditore il nostro presidente Andrea Lincente ha già di per sé un'azienda molto forte la sua azienda alle spalle e quindi ha sempre investito quasi totalmente e lui in prima persona nel calcio fortunatamente nel corso degli anni resta sempre lui a vertice della società naturalmente lui il primo investitore però abbiamo visto che le le aziende molisane quelle più importanti quelle più di spessore che possono purtroppo dobbiamo dire anche questo che possono investire ancora nel calcio nella pubblicità varia perché è diventato difficile pure questo non ci sono tutte queste aziende questi sponsor main sponsor che vogliono ancora investire nel calcio preferiscono anche investire in altri settori investire in altri sporti molise poi le dobbiamo trovare con il lanternino e quando ti danno una mano è veramente quasi un miracolo è miracoloso c'è da dire una cosa però che i conti fino adesso sono sempre tornati quindi è bravo è stato bravo dirigente forse sistemato il nostro presidente a riuscire a coinvolgere queste persone che hanno creduto nel progetto della polisportiva ma ci vedono già da 3-4 anni in questa parte perché poi sono sempre quelle le aziende le persone che ci sostengono quest'anno si aggiungono qualche altra grande realtà però devo ammettere che c'è sempre il presidente dietro che ha le spalle veramente forti e non per la stazza perché è bello forte è bello grosso anche lui ma veramente per i soldi che a volte tutti noi diciamo che butta nel mondo del calcio perché probabilmente in Molise forse in Molise più di altre zone d'Italia i soldi nel calcio si buttano veramente mi trovi assolutamente d'accordo Michele io ti abbraccio e ti rinnovo vi saluto e vi ringrazio quando aspetta Daniele a Michele permettimi Michele mi saluti Giovanni Giovanni Cheremateng è un ex bellaria lo so lo so arrivare in doppia cifra anche quest'anno si è Giovanni poi devo ammettere e devo dire prima di chiudere così vi lascio andare avanti che Giovanni è un ragazzo d'oro si è integrato subito in quel gruppo pensavamo che fosse un po' restivo perché vedendolo le prime volte nel ritiro un po' chiuso un po' poi quando ha capito che lì era com'è ed è attualmente una grande famiglia perché veramente i nostri ragazzi molti dei quali stanno insieme da diversi anni ti fanno integrare magnificamente si è ambientato è diventato di pastoggi tardi va a casa della gente va a mangiare i cavatelli è fortissimo ed è anche simbatico però ha un solo difetto prima e dopo le partite va lasciato completamente solo arriva al campo con la sua macchina non viene con gli altri con le cuffie sembra balotelli però è forte è vero è vero ti posso dare un consiglio lo vuoi tenere un altro anno a bastoggi tardi lui chi rimattenga ci proviamo ecco non portare i saluti di alpini fammi questa portettina Michele ci abbraccio grazie ci rivediamo grazie ciao vado su Noemi Noemi spero che sia stato un piacere per te scusami qui siamo tutti siamo tutti maschietti Abbi fa divertita tra di noi complimenti per la bellissima realtà che rappresenti grazie mille è stato veramente un piacere l'unica cosa se posso proprio sul filo del fuorigioco volevo ringraziare chiaramente la presidenza e la famiglia Ceri perché senza di loro non sarebbe potuto succedere questo miracolo calcistico ed è fatto benissimo a farlo Noemi speriamo di sentirci anche prossimamente magari qualche intervento anche nelle nostre trasmissioni quindi ti aspettiamo sempre volentieri grazie ancora di essere intervenuta grazie mille a voi grazie viva l'unico grazie ciao ciao allora ragazzi siete pronti per accogliere Guido Sani vogliono Ola eh finalmente finalmente ce l'abbiamo fatta è stato un fatto Guido 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 è scompato è sparito no è scompato si era collegato è stato collegato un'ora dov'è è scappato è scappato Guido ha visto Alpini e si è messo paura ho capito salvato Guido vi prego io 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 speravo credetemi speravo che questa sera con gli ospiti addirittura del Molise non si parlasse del Bellaria cosa l'unica domanda che va a fare all'ufficio stampa del Vasto Girardi salutami ma dove cavolo esci dove ti ho trovato i racchi con l'anternino neanche ricomponiamoci vediamo Guido se riesce a ricollegarsi è stato un'ora è stato un'ora da aspettare Daniele volevo volevo lanciare un appello sulla pagina di calcio di rigore hashtag salvati Guido Sani perché credo che no anche perché volevo concludere ragazzi proprio con Guido e con tutti voi i discorsi inerenti ai direttanti all'eccellenza che sono le due categorie che ci mancano allora mentre aspettiamo Guido Giacomo andiamo sul fatto per quanto riguarda i Gabice promozione Marche Cellini credo che si sia un po' orientato per quanto riguarda anche la guida per i prossimi format nei campionati marchigiani dimmi un po' la tua sì io ho letto quello che ha dichiarato Cellini vorrebbe promuovere le prime e bloccare le retrocessioni e quindi più o meno si andrebbe a seguire quello che si era ipotizzato tempo fa scusami Guido guido sali ciao Guido dalle 23 se l'abbiamo mi sentite si si mi sentite ti sentiamo qui una voi per mi sentite si bene ciao 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 Guido ciao ciao sono tramite cellulare scusate ciao ho fatto il possibile per essere in trasmissione perché appena poi mi darai la parola dovrò insultare pesantemente Mazzocchi capito per i miei sistemi tecnologici insomma grazie va bene Guido un minuto e ti do la parola Giacomo prego finisci il discorso e poi andiamo su Guido vai prego bene quindi Cellini si è espresso in questo modo quindi cercare di promuovere le prime e bloccare le retrocessioni so che anche Cellini ha fatto anche un appunto per quanto riguarda l'eccellenza Marche e ha parlato di una possibile anche ripescaggio promozione vogliamo dire chiamarla nello stesso modo dell'Anconitana anche se seconda alla differenza cioè a discapito del Castelfidardo che prima in eccellenza Marche vorrebbe ha espresso un giudizio positivo per la promozione dell'Anconitana adesso bisogna vedere perché bisogna vedere dalla serie D chi retrocede ci sono due squadre delle Marche che potrebbero lasciare il posto anche all'Anconitana che sono la San Giustese ex Campedelli ex San Bazzi che ne abbiamo parlato settimana scorsa e l'Oiesina anche che l'Oiesina so che ci sono delle novità a livello societario che però andremo magari a scoprire più avanti invece tornando al discorso promozione Marche ci sarebbe la possibile promozione o ripescaggio mettiamolo come vogliamo della Virtus Castelfidardo e oltre che alla promozione del Viaggio Nazaro e per quanto riguarda il Gabbiccia Pianadara purtroppo la vedo complicata un'eventuale promozione anche se c'è un un aumento del coefficiente sportivo grazie alla semifinale vinta sempre col Viaggio Nazaro della Coppa ricordiamo che aveva vinto 4-3 la partita di andata però non si è mai giocato il ritorno però c'è questa possibilità di questo aumento del coefficiente sportivo quindi sperare è bello anche se le probabilità sono ridotte all'umicino eh sì mi trovi d'accordo bene allora Guido ci sei sei pronto? Guido? Guido mi sentite? vorrei innanzitutto dire quello puoi insultare Mandocchi puoi insultarlo ma mi sentite? sì sì mi sentite intanto è una voce da al di là ciao Guido bene allora innanzitutto volevo dire bene ciao Mirko ciao a tutti allora volevo dire innanzitutto ai miei amici a casa di non fare come me perché sono stato due ore sul computer e poi mi sono accorto che mi potevo anche collegare tramite cellulare e poi alla fine insomma beh l'importante è che ce l'abbiamo fatta no con Mazzocchi gli dico che qua io sono sull'altro penino e non abbiamo tutte le strutture che c'ha lui a Bologna insomma quindi qui dalle nostre parti bisogna accontentarsi insomma ecco comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta dai sono contentissimo Guido volevo subito interpellarti perché l'abbiamo rilassato nuovamente anche per la parte finale per chiederti un po' tu come hai visto tutto questo caos in Serie D e che previsioni future prevedi per quel che sta succedendo in questo momento perché sappiamo che si sono morsi addirittura anche i capitani delle famose 36 retrocesse prego Guido sì beh innanzitutto voglio ringraziarti Daniele per l'invito che mi hai fatto e anche ovviamente spinto da Mirko vi ringrazio perché mi fa molto piacere essere con voi stasera vi seguo sempre e con molto piacere per quello che riguarda il discorso dei campionati se tu parli dei verdetti perché penso che la sospensione dei campionati fosse una cosa logica e sia stata condivisa anche da tutti perché non si poteva assolutamente portare a termine un campionato e poi in condizioni anche disastrose perché oltre al fatto del problema del coronavirus c'era anche il fatto che gente che era ferma da due o tre mesi avrebbe dovuto riprendere a giocare quindi in condizioni anche insomma nei direttanti era praticamente impossibile per quello che riguarda i verdetti diciamo che le soluzioni sostanzialmente per me erano due o quella mi rendo ovviamente come sempre impopolare ma io dico sempre quello che penso e cioè o congelavi le classifiche dicevi signori non è successo niente è stato bello e quindi si riparti il prossimo campionato da dove si è finito quest'anno oppure se prendi dei verdetti però li devi prendere ovviamente nella sua totalità e mi spiego non sono d'accordo con la serie D di dire una promossa e quattro retrocesse non sono d'accordo sulle quattro retrocesse per me la soluzione migliore sarebbe quella di una promossa e due retrocesse sia in serie D ma anche in tutti gli altri campionati perché se uno mi viene a raccontare che non posso andare a dire con la prima in classifica che fino a questo momento non è successo niente però se non è successo niente e quindi è successo qualcosa per loro e meritano sicuramente la categoria superiore anche qui è arrivato per chi è arrivato negli ultimi due posti è successo qualcosa quindi secondo me la soluzione migliore sarebbe quella di promuovere la prima ma ovviamente anche di ritrocedere le ultime due sì mi trovi mi trovi d'accordo su questo che tu che tu hai detto volevo chiederti visto che si continua a parlare appunto di proposte che sono state fatte oggi è uscito anche dalla serie C la possibilità che possa riprendere il campionato non sappiamo come se si riprenderà totalmente quindi mancano per alcune squadre 11 e per altre oppure se si giocheranno solamente i playoff e i playout tu cosa faresti al loro posto saresti per la ripresa totale o solamente per giocare i playoff e playout in serie C ma in serie C ma cosa fanno i playoff e facoltativi cioè come l'ultima che era venuta fuori perché sai che in serie C vengono fuori delle cose abbastanza diciamo così divertenti playoff e facoltativi poi era successo quello dell'estrazione dell'otto del sorteggio insomma eravamo un po' la serie C penso che se io sono sempre io beh sì erano un po' bizzarre come idee io sono per assurdo però era previsto da regolamento il sorteggio per assurdo è incredibile ma è vero ma cioè tu dici sorteggiare una squadra a caso per andare in serie B così no il sorteggio così no così no fatto così è assurdo esatto fatto così no però il sorteggio di per sé era previsto per un'altra situazione beh vabbè per un'altra situazione ma non sicuramente per questo non così non è puoi dire come ha detto l'ultima l'ultima che ha detto è capito io questa persona il presidente non lo conosco di voglio bene anche però uno che mi viene a dire facciamo i playoff facoltativi c'è chi li vuol fare chi non li vuol fare non li fa ma che roba è c'è una roba che non sta niente neanche i playoff o li fai o non li fai è una roba che non esiste capito e quindi comunque la serie C la serie C è un campionato professionistico per me dovrebbe essere legato alla serie A e alla serie B per cui se finisse la serie A e la serie B deve finire anche la serie C perché penso che la serie C abbia le strutture e parlo tutto di un sistema sanitario dietro che possa avere le possibilità per terminare il campionato poi dopo chiaramente questo sai io ti parlo da uno che segui i filettanti quindi i professionisti li seguo poco però la mia idea è questa qui che dovrebbe andare dietro sia la serie A che la serie B perché i playoff come fai poi promuovi le prime che è giusto che le promuovi poi i playoff fino a dove li fai fai i playoff cioè diventa difficile poi dopo sono tutti i ragionamenti che sono campati in aria perché dovete pensare che quando la gente non gioca da due o tre mesi se non c'è il test e strutture come fai ad andare in campo dopo due o tre mesi diventa diventa veramente diventa veramente difficile diventa anche un campionato falsato per un certo punto di vista bene iniziamo allora i duetti Mariotti Marzocchi con il nostro Guido Mariotti iniziamo da te prego so che avevi delle cose da chiedergli vabbè io e Guido non ci sentiamo mai detto questo no a parte che mi fa piacere che Guido ce l'abbia fatto anche a collegarti perché è stato un parto stasera veramente io volevo chiedere a Guido invece sul discorso retrocessioni tu sai come la penso il prossimo lo facciamo migliore Mirko no ma adesso ci organizziamo in questi giorni qua magari studiamo qualcosa no io volevo sapere da te quale sarebbe in caso delle quattro retrocessioni ovviamente sono in quel caso lì visto che c'è stata la disputa perché ovviamente la problematica reale nel girone di c'è il discorso crema san maurese che ovviamente non è ancora chiarissimo ricordiamo anche che sono la lega nazionale di lettanti in cui tu Guido c'era anche tu lunedì l'ha detto anche Braiati che hanno preso un legale per decidere effettivamente come devono essere stilate le classifiche secondo te la soluzione migliore non deve essere per forza quella che poi magari verrà attuata per stilarle le classifiche perché tanto comunque dovranno prendere una decisione per tutti uguale quale sarebbe quella di utilizzare il coefficiente punti quella di congelare le classifiche così come sono o eventualmente che non è un'ipotesi da scartare anche se la vedo un po' più complicata anche di utilizzare le classifiche paritarie cioè senza le partite in più disputate per guardare almeno le partite la classifica praticamente all'ultima giornata disputata completamente domanda più lunga non c'era però dovevo dire bene dovevo spiegare bene no a me lo sai Virgo che mi scappa da ridere perché il presidente della Lega Nazionale di Lettanti a cui voglio bene anche lui perché io voglio bene a tutti aveva detto segneremo la strada migliore che possa scontentare il meno possibile di fatti ci sono 32 società perché oggi si è aggiunto anche l'Alfonsine su 36 che si sono riunite nel comitato salviamoci e che vogliono fare ricorso al TAR che poi verrà fuori entro 40 giorni ma intanto ci vorranno 40 giorni quindi già questo ti fa pensare che non è sicuramente quella la strada ma lì non lo so io so solo che nel girone di il crema ha due partiti meno perché l'ha detto il direttore ha dichiarato no il notiziario del cacio perché tu ti sei dimenticato Mirko che c'è ancora in terzo e ultimo grado no no è già ufficiale ciliverga e crema è 2 a 1 è già ufficiale fonti delle società e quindi si è andato anche a tutti i gradi che ci sono in Italia di giustizia sportiva al terzo il crema ha rinunciato al terzo appello quindi ciliverga e crema è definitivamente 2 a 1 confermo il potenziale del calcio non è informato su questa cosa non ci credo siamo stati così veloci testimoni io ho sentito direttamente le due società quindi sono sicuro di quel che dico non facciano le guerre agli altri siti però no però io mi sono informato visto che qualcuno me l'ha chiesto ho sentito l'addetto stampo del ciliverghe e qualcuno del crema e mi hanno confermato la stessa cosa quindi al crema manca una partita o due partite Mirko non riesco a capire a questo punto una partita una allora si è sbagliato il direttore generale che ha detto due vabbè comunque fa lo stesso comunque manca una partita io non lo so come fai devi trovare come fai a trovare una soluzione perché se manca una partita quelli della San Maurese ti dicono ma non è colpa nostra se il crema manca una partita quelli del crema ti dicono ma noi manca una partita e quindi sono queste le situazioni difficili sono queste le situazioni difficili per quello che io ho detto la soluzione più semplice è quella se vuoi far retrocedere e devi far retrocedere far retrocedere le ultime due perché può essere sbagliato finché volete può essere anche un ragionamento da persona cattiva però è quello che ti dà meno possibilità e meno adito a queste problematiche qua perché poi di queste problematiche qua ce ne sono anche altre ed io non lo so che cosa cosa vai a definire cosa puoi andare a definire per salvare uno o l'altra come fai è difficile tanto la fine guido sai come va a finire eh tra la luce e vino eh vabbè quello è vero non ci sbagliandi molto ma secondo me quello è vero quello è vero ma zocchi sì io chiudo il mio discorso che poi tutti questi discorsi qua che stiamo facendo eh scusate un attimo tutti questi discorsi che stiamo facendo sono poi tutti discorsi che esattamente fra due o tre mesi e cioè fra a settembre ottobre dopo abbiamo vanno tutti a finire eh in fumo per non dire di peggio per il semplice motivo che ci saranno tantissime squadre che non riusciranno a iscriversi perché eh stiamo andando incontro a una crisi economica che sicuramente il calcio sarà l'ultimo dei nostri problemi quindi avremo al di là di quello che dicono i dirigenti avremo veramente tante tante problematiche per quello che riguarda le iscrizioni secondo il mio punto di vista quindi ci sarà posto per tutti è vero è vero ma zocchi eh no io pare che sono molto felice di avere comunque appreso questa sera che il sodalizio Sani-Mariotti va anche oltre il calcio insomma va avanti anche nella vita ma a parte questo volevo volevo sapere da te le vuoi prendere comunque volevo sapere da Guido da Guido Sani insomma secondo te Guido adesso parte le battute il calcio del tantistico no ripartirà nel 2020 cioè allo stato attuale delle cose come fa a ripartire il calcio del tantistico come ripartirà e se ripartirà il calcio del tantistico e tutto lo sport partirà sai quando Alessandro quando noi in Italia impareremo come fanno negli altri paesi a convivere con il virus finché non impareremo a convivere con il virus non ripartirà nel calcio e nessun altro sport perché se tu mi dici che è il primo contagiato che quindi contagiato non vuol dire che sta male che ha dei problemi e quindi che genera l'emersione in ospedale ma il primo contagiato che potrebbe stare bene come me e te blocchi tutto per due settimane è chiaro che poi c'è il discorso della responsabilità che se non tolgono il discorso che è la responsabilità del presidente o tutte queste cose qua collaterali è chiaro che non non si va più avanti se noi invece impariamo a convivere con il virus hai capito oggi ho sentito ma anche c'era sento dire ma bisogna e poi uno va a fare allenamento deve stare un metro e mezzo poi deve andare a fare la doccia a casa ma di cosa stiamo parlando c'è uno va a campo sportivo a fare allenamento poi sale in macchina tutto sudato deve andare a fare cioè sono tutte cose che dobbiamo metterci in testa che col virus bisogna conviverci finché avremo queste paure purtroppo non riusciremo a fare ripartire niente secondo il mio punto di vista e la vedo dura anche a settembre ottobre a questo punto sì potrebbe potrebbe essere dura infatti sicuramente a settembre ottobre speriamo incorciamo le dita che possa ripartire Guido ho una domanda anche da parte di Giacomo Alpini Giacomo è un maestro Guido per quanto riguarda il calcio ringrazio ancora Guido di essere qui tra noi e ringrazio anche Mirko e Alessandro che hanno avuto modo di farlo coinvolgere nella nostra trasmissione calcio di rigore Giacomo una domanda per Guido prego ma io sinceramente ho ascoltato tutto quello che ha detto e che ha fatto delle analisi perfette l'unica cosa che è rimasta magari di affrontare è quello il discorso riforme lui come la vede a tuo avviso Guido andranno si riuscirà quest'anno a fare queste riforme e come saranno strutturate si intanto ringrazio Daniele per il maestro ma io il vero maestro è Mirko non sono io il vero maestro dei direttanti assolutamente rimane sempre il maestro te sei il rettore si ma per età per età per età fino agli amatori e prende anche la branca di tutti gli altri sport nello stesso momento uno che riesce a fare 30 cose nello stesso momento Alessandro fa l'asino ma lo sa vabbè con Mazzocchi vedi Daniele con Mazzocchi ci sono andato fuori una volta a pranzo non ci tornerò più invece convinto ci continuo ad andare quindi vuol dire che qualcosa c'è veramente scusate interrompo un secondo veramente tu Guido dovevi offrire a me a Mariotti una tagliatella che non hai mai offerto ma comunque vabbè lasciamo perdere facciamo a tempo facciamo ancora in tempo facciamo ancora in tempo esatto per rispondere a Giacomo io penso che le riforme del calcio e probabilmente nessuno l'ha messo in preventivo arriveranno da sole arriveranno da sole perché ripeto con per me ci saranno molte problematiche per varie società ad iscriversi e quindi perché io ho sentito oggi un presidente di una società di emozione reggiana lui è un caso unico più unico che raro ha detto che è riuscito a mantì i suoi sponsor anche per la prossima dice una roba incredibile non so come sia successo però però questo è uno è un caso unico è un caso più unico che raro perché molti dovranno fare i conti con questa crisi economica quindi molti non potranno più veicolare i loro soldi sul calcio delitantistico e quindi per me per alcune società diventerà molto molto difficile perché vorrei poi sfatare anche la leggenda che è girata che i giocatori dovrebbero andare a giocare per passione o gratis scordatevelo perché c'è se uno va a giocare a calcio soprattutto in certe categorie promozione eccellenza con tre allenamenti alla settimana più la partita domenica non penso che vada in giro gratis qualcosa vorrà come è giusto che sia perché è come un secondo lavoro sì Mirko ha fatto dell'osservazione la settimana più che altro per quanto riguarda il momento difficile che stiamo vivendo diceva giustamente il rimborso ci sta però chi sognava ad esempio di prendere degli ingaggi mostruosi senza ovviamente fare i nomi se li deve scordare per almeno un anno o due ho visto quello che stiamo passando in questo momento per poter ripristinare il prima possibile il problema che abbiamo avuto però Guido giustamente capisco anche la riflessione che fai tu giustamente perché molti giocatori se si devono spostare già di 60 km da una parte e dall'altra quindi diventano quattro viaggi a settimana non è che si possono accontentare di due euro quello è poco ma sicuro hai ragione e poi Guido considera che ci sono anche quelli che non hanno bisogno di fare delle telefonate per i rimborsi perché ci sono quelli che per merito sportivo in campo le chiamate le ricevono lo stesso anche quest'anno perché insomma qualche giocatore che ha sempre guadagnato delle cifre le prenderà anche il prossimo anno ma perché se le guadagnate ci sono comunque anche quelli ecco bisogna dirlo sì sì però ti dico per esempio ti faccio un altro esempio di fresco di oggi so che una società promozione sempre reggiana ha chiamato i suoi giocatori ha detto guardate la situazione è questa meno 50% di un stipendio sai quanti ce ne sono rimasti che hanno accettato zero quindi questa è l'area che tira questa è l'area che tira le società stanno chiamando i giocatori stanno dicendo io ti tolgo 50 o ti tolgo il 20 o ti tolgo il 30 però i giocatori dicono no poi dopo vedremo tutti questi giocatori se troveranno poi squadra perché sai purtroppo adesso bisogna mettersi nella testa che il prossimo anno sarà un anno veramente in cui dovremo stringere tutti i denti tutti sarà un anno balordo molto balordo un anno molto molto balordo sì molto molto balordo però Guido stando al tuo discorso volevo capire questo che è un po' quello che ci stanno chiedendo anche da diverse settimane i nostri spettatori se tu oggi dovessi azzardare in base a anche le riflessioni che stavi facendo stasera e qualche dato che ti hanno dato tu adesso mi dicevi nel reggiano nella fattispecie ma l'anno prossimo secondo te l'eccellenza l'eccellenza Emiliano Romagnola quanti gironi sarà composto quante squadre ci saranno per te per ogni girone se oggi dovessi azzardare la presenza di un numero quantitativo di squadre io penso che dovremmo rimanere come siamo adesso nella stessa maniera io ho sentito Braiati dice che si potrebbero ipotizzare tre gironi però tre gironi anche da 14 squadre bisogna sempre trovarle queste 14 e 28 sono 42 squadre dico bene quindi bisogna poi trovarle queste squadre per fare i gironi tre gironi per me 42 squadre scritte nell'eccellenza il prossimo anno non ci sono per me anzi ce ne sono molto meno sono d'accordo sul discorso di dire di fare dei gironi per fare meno chilometri però ho sentito anche dei dirigenti in questi giorni hanno detto non è il problema di fare quei 10 chilometri più 10 chilometri in meno che risolvono i problemi i problemi sono altri da risolvere ci vogliono degli aiuti concreti per le società delle tattistiche e devono arrivare degli aiuti concreti da parte di chi di dovere anche secondo me Alessandro e Mirko se ci sono altre domande anche da parte vostra Guido io intanto ti dico già una cosa visto i problemi che abbiamo avuto stasera il prossimo noi ti aspettiamo in calcio di rigore fin dall'inizio quindi vuoi non vuoi sei nostro ospite obbligato quindi te lo dico già tanto giovedì c'è anche Beppe se Mirko mi dà una mano a mettere a posto poi con il discorso del computer ci proviamo ci proviamo giovedì c'è anche Beppe c'è anche Beppe in delicato perché c'è il cellulare in mano non so neanche esatto bene proviamo a sistemare magari su pc dai lo sistemiamo lo sistemiamo Mirko e Alex avete io volevo dobbiamo assolutamente perché adesso sono in condizioni veramente pessime no io volevo solo aggiungere questo aggiungere che finalmente insomma avete hai invitato Daniele una persona che comunque conosce il calcio che è un terzo di Mirko che mi lanta e quindi è giusto è giusto richiamare sentire anche il parere di Guido che mi sembra un massimo esperto il calcio del tantistico Emiliano quindi mi fa molto piacere sentire parlare Guido quindi volevo solo quando ti vede ti dà delle sberle allora se Guido è il rettore io sono il maestro Marzocchi è l'allievo che prende gli scopaccioni bravo io sono bravo ma si applica quando ne voglia bravo Giacomo hai visto che abbiamo conosciuto anche stasera un amico in più sei contento Giacomo sì sì grande personaggio mi fa piacere mi fa piacere non chiedergli del bellare che non gliene frega niente te lo dico ringrazio Giacomo però imparerà anche quello imparerà anche quello no ringrazio Giacomo esatto ringrazio molto Giacomo Daniele però vorrei ricordare le persone a casa che fare il lavoro che facciamo io e Mirko non è facile ricordatevi non è facile perché bisogna veramente avere tanta tanta passione e veramente stare sempre sul pezzo perché tenere dietro un sito veramente è una cosa molto molto complicata è un lavoro che ti impegna veramente tanto e quindi diciamo che abbiamo tantissima passione e con la nostra esperienza ormai che è ultraventennale insomma anche le conoscenze ci aiutano a districarci bene in questo mondo dei dilettanti insomma mi trovo assolutamente no mi trovo assolutamente d'accordo in più dico anche questo che è una cosa che mi può fare onore da una parte però anche complicarmi un attimo la professione nel senso che quando cinque anni fa noi abbiamo aperto questa trasmissione che tu oggi vedi nel web inizialmente avevamo bisogno assolutamente di fare un'infarinatura per quanto riguardava il calcio locale perché io un po' come Mirko dalla serie A alla serie D conoscevo veramente tanti calciatori tutte le squadre l'eccellenza sono sincero essendo di origini molisane conoscevo più l'eccellenza molisana e l'eccellenza bruzzese grazie anche a te Guido perché io ti conoscevo di nome ma non personalmente grazie anche a Mirko Mariotti che ho conosciuto cinque anni fa ho preso in mano questa avventura insieme a Giacomo che vedi qui presente per creare questo format qui nel riminese per quanto riguarda il calcio locale e devo dire che abbiamo avuto voi come maestri ma siamo riusciti anche noi a farci valere finalmente a coltivare questa cultura questa passione che è divenuto un vero e proprio lavoro vedendo anche la diretta che abbiamo fatto stasera quindi un ringraziamento mio ed obbligo sia nei tuoi riguardi Guido sia nei riguardi anche di Mirko e poi l'unica conostonata che ho conosciuto anch'io Alessandro Marzocchi questo sì questo lo devo riconoscere no a parte gli scherzi siamo addirittura d'arrivo volevo ringraziare innanzitutto te Guido e quindi ti rinnovo l'invito per giovedì prossimo in calcio di rigore così parleremo fin dall'inizio di tutte quante le categorie vedremo un po' quello che è successo perché poi la prossima settimana sarà ricca di appuntamenti a livello di riunioni quindi Guido ti aspetto un abbraccio fortissimo e grazie per essere intervenuto questa sera sì ti ringrazio a te Daniele per avermi invitato dopo speriamo di fare un collegamento migliore perché sono qua con il cellulare in mano e ormai non ce la faccio neanche più per fortuna che è finita davanti al computer è molto meglio però volevo ti ringrazio anche perché hai detto una cosa molto importante perché tu stai facendo un grandissimo servizio perché qua la gente non sa che la gente certa gente la sera quando va a casa mangia e poi va davanti alla televisione invece noi che seguiamo i calciodilettanti come te come io come Mirko come tutti invece adesso è tutto fermo ma quando c'è il calciodilettante la sera siamo spesso e volentieri sui campi per seguire le partite e per fare queste cose che sono molto utili quindi questo è molto importante grazie di cuore ci vediamo alla prossima grazie Guido vado a salutare nell'ordine Mirko Mariotti grazie Mirko come sempre di tutto oggi veramente quattro ore in diretta compresa anche la trasmissione di Lega Pro grazie molto Mirko grazie a te considerato che prossima settimana mi sa che delle dirette visto che hanno posticipato anche adesso non so se Guido lo sa posticipato il Consiglio Federale al 4 quindi secondo me quello della Lega Nazionale direttante lo fanno il 6 mi sa non più il 5 bene bene anche questo ci mancava anche quella lì il settembre ciao capiamo poi è vero è vero grazie anche ad Alessandro Marzocchi grazie Ale come sempre di tutto ciao ciao a tutti grazie a voi e grazie infine anche a Giacomo Alpini grazie a te Dani ciao a tutti grazie a tutti voi che ci avete seguito a tutti i nostri spettatori linea alla regia e grazie soprattutto anche a Matteo Zampini che in regia per l'ennesima volta ci ha mandato in onda anche i filmati in questa trentatresima puntata di calcio di rigore grazie anche a te Matteo e buonanotte a tutti voi grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori AUNA Redamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese professionisti che operano nel settore del contract, qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nella searching qualificato della funzione logistica. Nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito AlcaServizi.com Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusa Rull, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Mmm, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Al ristorante Brusa Rull, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusa rull.com Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci! Ti cureremo con le più moderne tecnologie. La TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci! IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, standy pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuoci piada, mixer tritacarni, affettatrici e spogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 923453. Starter Green, la U2mila, è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo, entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, ma antierbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Ricco K. E ci trovate anche su internet www.startergreen.it A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni sono umili e grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico, con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.